Mi pare che tutti hanno preso posto, quindi direi che possiamo iniziare. Buon pomeriggio e ben trovati. Ridiamo avvio oggi ai dialoghi di diritto del lavoro alla seconda edizione del 2017. Alle nostre spalle è proiettata la locandina che mette in evidenza quelli che sono gli incontri programmati nel corso dei prossimi mesi. Oggi ci occuperemo del contratto a termine, il 28 settembre dei profili critici del processo del lavoro. Il 27 di ottobre il tema sarà quello dell'obbligo di sicurezza e la prevenzione del disagio lavorativo. E l'ultimo incontro programmato per il 30 di novembre sarà dedicato invece ai controlli sul lavoratore alla luce delle recenti riforme. Veniamo al tema di oggi, è un tema che potremmo definire classico se non addirittura tradizionale del diritto del lavoro che però sollecita e solleva sempre una notevole attenzione. Nell'incontro di oggi in particolare ci occuperemo dell'apparato sanzionatorio introdotto con la recente riforma del giugno del 2015 e che in pratica il prossimo 25 giugno comprirà esattamente due anni. Due anni durante i quali si è data applicazione a questa normativa, sono state sollevate le varie criticità tenendo conto anche del fatto che questa normativa convive con la disciplina precedente quella che era contenuta nel decreto numero 361 del 2001 e rispetto alla quale il Jobs Act ha introdotto una disciplina nuova volta in parte a semplificare la normativa sia di carattere sostanziale che quella inerente all'apparato sanzionatorio in una logica che è un po' quella che caratterizza l'intero Jobs Act quella di individuare un apparato sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di violazione o meglio a seconda della gravità della violazione che di volta in volta viene riscontrata. E' una tecnica questa che traspare, che è stata affermata chiaramente in relazione al contratto di lavoro a tutele crescenti e una tecnica che è stata ripresa anche dall'articolo 28 del decreto legislativo numero 81 del 2015. La stessa disciplina convive poi, la stessa disciplina del contratto a termine che è forse la disciplina più emblematica della cosiddetta flessibilità al margine convive poi con l'importantissima riforma che è stata introdotta in materia di licenziamenti per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi che oggi è il contratto di lavoro a tutele crescenti. E' questo il panorama in cui oggi ci muoviamo nell'esaminare la disciplina dell'apparato sanzionatorio del contratto a termine. Esame che sarà affrontato in prima battuta dalla professoressa Silvia Ciuciovino dell'Università Roma 3, che ringrazio di cuore per aver aderito al nostro invito. La professoressa Silvia Ciuciovino si è occupata spesso di questi temi ma almeno personalmente la apprezzo perché i suoi scritti risultano sempre molto sintetici puntuali nell'esame delle problematiche e altrettanto puntuali nell'individuare delle soluzioni che vengono solitamente espresse con estrema chiarezza. Sanno anche criticabili però sono sempre chiare quindi le critiche possono essere mosse in relazione delle prese di posizione chiare almeno per come leggo io. Grazie di cuore per aver accitato l'invito. Si confronterà la professoressa Silvia Ciuciovino con ben tre discussant tutti molto esperti nella materia del contratto a termine in particolare con il dottor Giorgio Flaim che penso non abbia bisogno di presentazioni. Segnalo però che il suo contributo da giudice è stato molto importante soprattutto per quanto riguarda l'individuazione dell'apparato sanzionatorio nei confronti dell'abuso dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni. E' uno dei giudici che ha sollevato la questione di costituzionalità prima e anche la questione innanzi alla Corte di Giustizia. Ancora abbiamo altre due discussant. Questa volta si tratta di due avvocatesse, va bene? Avvocatesse, l'avvocato Lucia Bobbio della provincia autonoma di Trento. Lei ha una lunga esperienza perché difende la provincia nelle varie controversie soprattutto per quanto riguarda il personale della scuola. E poi abbiamo l'avvocato Silvia Cristiana Pinamonti che anche lei si occupa di controversie in materia di pubblico impiego di abuso dei contratti a termine però sul versante dei lavoratori quindi ci fornirà la prospettiva, la visuale dei lavoratori appunto. Penso che gli argomenti siano piuttosto numerosi, interessanti e quindi cedo immediatamente la parola alla professoressa Silvia Ciuccio Vino per la sua relazione introduttiva. Ringraziandolo ancora di cuore. No, sono io che ringrazio assolutamente il professor Bologo e il professor Nogler e gli altri colleghi di Trento che mi hanno, diciamo, pensato a me per questo intervento e quindi la cosa sicuramente mi lusinga. Non sono ovviamente l'unica giusti lavorista che si occupa di queste tematiche quindi non so se c'è un significato dietro questo invito anche perché effettivamente alcune delle posizioni che ho, diciamo, espresso nei miei esaggi appunto non sempre corrispondono a quelle che sono delle opinioni che vedo anche dominanti qualche volta in dottrina. Quindi io umilmente cercherò di presentare quelle che sono alcune mie idee con le mie riflessioni e quindi sarò molto contenta poi di sentire gli interventi dei discussant e mi auguro anche, diciamo, della platea perché immagino che lo spirito di questo incontro è tra professionisti e quindi tra persone anche interessate a affrontare questioni applicative delle norme. Allora, io penserei di articolare il mio intervento che cercherò di non trascinare troppo a lungo in due parti una che è relativa all'apparato sanzionatorio del contratto a termine del settore privato e una seconda parte, invece, che riguarda le questioni delle sanzioni e dei rimedi e della prevenzione degli abusi nell'ambito del settore pubblico. Sono due nuclei, diciamo, distinti che hanno seguito degli itinerari interpretativi diversi e le ragioni poi verranno, sono sicuramente a tutti note e cercherò di metterle in evidenza nel corso della mia presentazione. Allora, iniziando dal settore privato ho pensato e penso che sia utile concentrare l'attenzione essenzialmente sulle modifiche apportate dal Jobs Act alla normativa sul contratto a termine e quindi la questione dell'apparato sanzionatorio così come emerge dal decreto legislativo 81-2015 possiamo poi affrontare invece le questioni applicative che emergono dalla mancanza di una disciplina transitoria di regolazione del passaggio dal vecchio al nuovo e quindi vedere semmai, magari però successivamente nel confronto forse con voi e con questioni pratiche diciamo le problematiche che emergono nel passaggio dal vecchio al nuovo. Quindi concentrò la mia attenzione sul decreto 81-2015 il titolo dell'incontro di oggi è focalizzato sull'apparato sanzionatorio quindi non mi dilungherò troppo su quelle che sono invece le regole di disciplina del rapporto a termine se non indirettamente, diciamo laddove ovviamente sono interessate dalle relative sanzioni. Pur non trattando degli aspetti di disciplina però vorrei fare una introduzione che a mio avviso ci dà anche un po' il significato di questo intervento riformatore del 2015 sulla disciplina del contratto a termine. Una riflessione che riguarda diciamo come il contratto a termine si inserisce nel contesto della riforma complessiva del mercato del lavoro che va sotto la denominazione di Jobs Act e come nel contratto a termine si ritrovino alcune delle ispirazioni di fondo di questa disciplina generale. Che cosa voglio dire? Come sapete, adesso qui non mi posso dilungare alla base di questa riforma complessiva del Jobs Act c'è, almeno per quanto riguarda le tipologie contrattuali flessibili c'è sicuramente un proposito del legislatore che emerge in modo chiarissimo dalla riscrittura di tutte le norme che è quello di cercare di contenere sicuramente il contenzioso che l'utilizzo dei contratti flessibili e temporanei ha generato negli scorsi anni. Su questo direi che non ci può essere dubbio cioè l'obiettivo è quello di introdurre una disciplina chiara una disciplina che consenta di valutare con sicurezza in anticipo le condizioni di legittimità nell'utilizzo dei contratti flessibili è quello di cercare di realizzare la massima deflazione possibile di questo contenzioso. Per fare questa operazione il legislatore interviene in vari modi e innanzitutto come tecnica legislativa di regolazione del contratto a termine di altre tipologie contrattuali supera completamente l'approccio della legislazione diciamo degli anni precedenti e decenni precedenti che era incentrata sulla causale giustificativa del contratto a termine. Praticamente noi abbiamo sempre avuto una regolazione del contratto a termine dove la condizione di legittimità si poggiava sull'esistenza di una ragione tecnica, produttiva, organizzativa più o meno qualificata che legittimava la stipulazione del contratto a termine o meglio la posizione del termine al contratto di lavoro. Questo è stato anche uno dei motivi dell'esplosione del contenzioso perché questa tecnica era poi realizzata come? con una norma come si dice generale aperta a precetto come si dice generico per cui poi il contenuto reale precettivo di questa normativa è stato declinato nel tempo dalla giurisprudenza e questo ha determinato sicuramente un'incertezza nelle condizioni diciamo di applicazione delle norme. per di più mancava una sanzione espressa paradossalmente per la carenza dei requisiti legittimanti del contratto a termine cioè a fronte di una normativa diciamo abbastanza articolata del contratto a termine che il legislatore ha più riprese nel corso degli anni al 2001 e negli anni successivi ha rimaneggiato ma diciamo non si è mai introdotta una sanzione esplicita che diciamo indicasse quale fosse la conseguenza sanzionatoria della carenza dei requisiti di stipulazione poi diciamo nessuno aveva dubbio che la sanzione fosse la conversione del contratto cosiddetto a tempo indeterminato o meglio la riqualificazione da parte del giudice del contratto a termini illegittimi in un contratto a tempo indeterminato però a questo risultato bisognava pervenire attraverso una strada un po' tortuosa che sostanzialmente partiva da un assunto che il contratto diciamo standard o la forma comune di contratto fosse quella a tempo indeterminato rispetto al quale il contratto a termine era diciamo una eccezione o comunque una forma speciale e quindi il venir meno delle condizioni di legittimità di questa forma diciamo speciale portava il riassorbimento nella forma generale però questo anche questo processo logico ha dato adito a delle contrapposizioni in dottrina a delle diciamo delle elaborazioni anche in giurisprudenza ma se giurisprudenza è andata un po' più diretta diciamo però in dottrina insomma ci si è affaticati su questo rapporto che c'era tra il contratto a termine e il contratto a tempo indeterminato e questa diciamo spesso un po' anche superfetazione diciamo interpretativa e poi era necessaria per fondare l'apparato rimediale come è intervenuto il Jobs Act su questa tecnica diciamo normativa? Niente, l'ha spazzata via in un battibaleno per cui oggi noi non abbiamo più un contratto a termine con una causale giustificativa fondata su ragioni relative all'impresa agli interessi dell'impresa ma abbiamo una tecnica dove il requisito di legittimità della posizione del termine non è più di carattere qualitativo ma di carattere meramente io dico quantitativo e quindi più facile nella sua individuazione più facile nella sua valutazione e in che cosa consiste questo requisito di carattere quantitativo e non più qualitativo essenzialmente nella durata del contratto il contratto a termine non può avere una durata diciamo superiore a 36 mesi comunque la si metta o il singolo contratto a termine o una pluralità di contratti a termine con lo stesso lavoratore o un contratto a termine prorogato abbiamo un termine che a questo punto possiamo definire generale un termine di durata massima del contratto che è fissato in 36 mesi questa è la norma di contenimento del contratto a termine abbiamo poi un'altra norma di contenimento del contratto a termine di carattere sempre quantitativo che è il rapporto percentuale che c'è tra il contratto a termine e gli lavoratori assunti a tempo indeterminato però nella nuova architettura legislativa questo è un limite meno rilevante e questo lo capiamo almeno da due elementi innanzitutto dalla collocazione proprio topografica della norma di contenimento quantitativo in termini percentuali rispetto all'impianto della legge che infatti è postergato di diversi articoli rispetto alla norma all'impianto della disciplina dove nella prima norma cioè quella che ci dice quali sono le condizioni di apponibilità del termine si fa menzione solo esclusivamente del termine massimo di durata solo successivamente dopo aver quindi stabilito le condizioni di legittimità i divieti e così via abbiamo una norma sul contenimento percentuale non soltanto quindi la collocazione nel susseguirsi delle norme che certamente non è casuale un merito va riconosciuto sicuramente al decreto 81 2015 che deve essere un testo ordinato dove c'è una logica anche nella successione delle norme e quindi non è casuale ma non è solo questo perché si potrebbe dire è una scelta del legislatore di collocazione di un limite prima ed un altro dopo ma è anche la sanzione che viene associata alla violazione di questi due limiti diciamo così che ci rende palese la diversa importanza che l'ordinamento ricollega a questi due limiti perché la violazione del limite temporale dei 36 mesi è colpito con la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto quindi la sanzione massima e quindi della riconduzione del tipo a quello diciamo così generale viceversa la violazione del limite percentuale del 20% peraltro derogabile in qualsiasi senso in mellius impegni della contrattazione collettiva è colpito solo esclusivamente con una sanzione amministrativa con esclusione espressa della possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato questi due elementi mi convincono almeno questa è la mia idea che è completamente cambiato anche rispetto a questo diciamo elemento la nuova disciplina rispetto alla precedente nella precedente ma parlo quella del 2001 e poi delle successive diciamo modifiche la violazione del limite percentuale era quantomeno nella comune valutazione posto su un piano almeno alternativo diciamo a quello comunque di pari livello rispetto a quello della violazione dei requisiti sostanziali invece oggi mi sembra chiaramente che un conto è la violazione dei limiti sostanziali che sono quelli di durata e un conto è la violazione dei limiti percentuali quindi l'intervento del legislatore secondo me è più incisivo di quello che apparentemente può sembrare di una riscrittura della disciplina del contratto a termine e questi due limiti vanno ad individuare quello che io chiamo un limite alla precarizzazione del rapporto individuale e questo si è colpito in modo forte in modo severo dal legislatore e un limite alla precarietà in generale nell'impresa perché il limite del 20% è una sorta di limite alla precarietà diciamo generale che l'impresa diciamo può generare teoricamente questo 20% l'impresa lo potrebbe diciamo coprire con tanti lavoratori diversi su questo non c'è nessuna norma che impedisce all'impresa di ricambiare lavoratori a termine rispettando diciamo la percentuale fissata al 20% e non è quindi la precarietà in generale dell'impresa che viene generata che è considerata così diciamo negativamente ormai dell'ordinamento è contenuta perché c'è il limite quantitativo ma invece è considerata negativamente e questa realizza sì la normativa antiabusiva del contratto a termine la normativa che pone il limite alla precarizzazione del rapporto individuale cioè tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro quel rapporto non può mai protarsi per più di 36 mesi diciamo a termine quindi questa precarizzazione individuale è il limite antiabusivo del contratto a termine è diciamo la norma che consente anche di conformare l'ordinamento interno a quelle che sono le regole comunitarie e quindi la direttiva europea che ci chiede come sapete di dotarci di una normativa antiabusiva dove l'antiabuso viene diciamo poi dalla direttiva europea declinata con misure alternative una di queste misure è quella di porre negli ordinamenti nazionali un limite alla durata massima complessiva dei contratti a termine ed è proprio su questa misura della direttiva che noi abbiamo concentrato l'intervento riformatore del 2015 perché è quella la misura antiabusiva non abbiamo più la ragione oggettiva di apposizione né una ragione oggettiva che legittima la reiterazione del contratto il contratto è legittimo sempre purché diciamo si rispetti il limite temporale che abbiamo detto e il limite percentuale che abbiamo detto che però si pone in una misura e in una posizione di secondo grado l'intervento poi però riformatore tende a inasprire questo limite dei 36 mesi perché questi 36 mesi nella precedente normativa erano soltanto un limite alla pluralità di contratti a termine e quindi era un limite che riguardava il cumulo di più contratti a termine o il contratto a termine unico prorogato mentre oggi il limite 36 mesi è anche un limite secco dell'unico contratto a termine e questo sarebbe il meno perché non mi è mai capitato nella mia esperienza di vedere un contratto a termine secco di 36 mesi e quindi questo diciamo che l'innovazione è meno rilevante però diciamo sul piano sistematico ha un suo significato mentre prima l'unico contratto a termine secco poteva essere anche di 5 anni non c'erano preclusioni normative oggi invece si pone questo limite proprio perché si dà adesso una valenza direi quasi generale di contenimento della precarietà ma si è inasprito il calcolo di questi 36 mesi perché concorrono a far andare il contatore dei 36 mesi tutte le forme di impiego di quel lavoratore non più soltanto nelle mansioni analoghe come pervedeva la vecchia norma ma in mansioni che sono comprese nello stesso livello di inquadramento e categoria legale e quindi abbiamo un conteggio che si amplia rispetto al passato in questo conteggio concorrono anche le somministrazioni quindi è più semplice diciamo così rispetto al passato consumare i 36 mesi perché prima concorrevano a determinarli soltanto le mansioni diciamo analoghe chiamiamo le equivalenti mentre oggi abbiamo un calcolo diciamo che è più favorevole al lavoratore perché diciamo fa consumare prima i 36 mesi l'elemento innovativo quindi secondo me è questa diciamo riscrittura della norma dove si tende a stressare l'elemento limitativo concepito non come utilizzo del contratto a termine ma come abuso del contratto a termine questo emerge secondo me in modo molto più rilevante rispetto al passato una tecnica normativa che tende a ridurre al minimo lo spazio interpretativo del giudice che a questo punto ha poco da interpretare perché deve semplicemente verificare che non sia superato il limite ai 36 mesi o quello quantitativo diciamo di rapporto percentuale con la manodopera a tempo indeterminato e un apparato sanzionatorio questa è la terza linea di intervento che rispetto al passato è declinato in modo molto più specifico su questo possiamo dire forse che si apprezza il principale elemento di innovazione rispetto alla precedente disciplina dove paradossalmente avevamo come ho già detto prima come ho accennato prima una normativa certo erano previste delle sanzioni ma molte violazioni rimanevano prive di un'espressa sanzione prima ho accennato al fatto che era priva di sanzione la carenza del requisito sostanziale di apposizione del termine era priva di sanzione la violazione dei divieti era priva di sanzione la violazione della proroga abbiamo quindi avuto un lavorio diciamo interpretativo non soltanto sull'interpretazione dei requisiti sostanziali ma anche sulle sanzioni ricollegabili a queste violazioni che poi diciamoci la vediamo erano poi tutte andavano tutte nella direzione della trasformazione a tempo indeterminato ecco nell'ottica di ridurre il più possibile questo contenzioso e questa discrezionalità legislativa interpretativa e questa imprevedibilità degli asidi del giudizio il legislatore del 2015 interviene con una declinazione dell'apparato sanzionatorio questo diciamo lo abbiamo nel contratto a termine lo abbiamo per tutti gli altri contratti flessibili lo abbiamo diciamo in generale come approccio del del jobs act alla regolazione delle forme di lavoro la declinazione delle sanzioni corrisponde anche ad una loro graduazione e questo pure ci richiama alla mente diciamo l'intervento riformatore che ha subito la disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo dove pure diciamo abbiamo assistito ad un processo di passaggio dalla sanzione monolitica diciamo della reintegrazione ad un'articolazione e graduazione delle sanzioni a seconda della gravità della violazione e lo stesso diciamo impianto viene ad interessare il contratto a termine non c'è dubbio che la sanzione alla trasformazione rimane quella prevalente e più diciamo menzionata dal legislatore però diciamo ne guadagna sicuramente il tasso di certezza delle norme quindi la violazione dei 36 mesi è colpita con la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato e questo diciamo dalla data di superamento dei 36 mesi qui rimane una piccola sbavatura nel testo normativo perché questi 36 mesi il legislatore li fissa dota di sanzione il superamento dei 36 mesi prevedendo espressamente la trasformazione a tempo indeterminato però ci dice allo stesso tempo i 36 mesi sono derogabili dall'autonomia collettiva c'è una apertura ampia all'autonomia collettiva perché dice salva diversa previsione dei contratti collettivi il limite è 36 mesi quindi il contratto collettivo potrebbe rimettere le mani su questo elemento e quindi stabilire un diverso limite anche maggiore su questo però non abbiamo una una sanzione espressa cioè mentre è espressa la sanzione della trasformazione per il superamento dei 36 mesi non abbiamo una espressa sanzione per diciamo il superamento del diverso limite previsto della contrattazione collettiva e quindi qui si ape un problema interpretativo che si può porre a mio avviso si dovrebbe applicare la sanzione della trasformazione per le ragioni che vi ho detto prima cioè per la valenza sostanziale che ha questo limite praticamente è il limite del contratto a termine quello della durata e quindi sia che sia stabilito al legislatore sia che sia rimesso alla contrattazione collettiva permane a mio avviso l'impostazione di un limite forte sostanziale di ricorso all'istituto e quindi penso che sia diciamo ragionevole ritenere che anche la violazione del diverso limite previsto al contratto collettivo sia assistito da una sanzione diciamo di trasformazione l'assupramento di vieti la violazione di vieti comporta la trasformazione di rapporto a tempo indeterminato così pure le normative di violazione della proroga che prima non erano assistite da espressa le sanzioni oltre a questa sanzione della trasformazione a tempo indeterminato abbiamo altre due sanzioni diciamo la sanzione amministrativa che abbiamo detto che colpisce il superamento invece della quantità del rapporto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato quindi della percentuale di contingentamento e qui il legislatore è chiarissimo perché esclude espressamente la trasformazione del rapporto chiedendo così un'ambiguità che invece poteva emergere dalla normativa precedentemente in vigore che pure aveva previsto questa percentuale la sanzione amministrativa ma non aveva chiarito se questa fosse aggiuntiva o esaustiva ecco aggiuntiva rispetto a una possibile trasformazione a tempo indeterminato invece qui il legislatore previene ogni possibile dubbio e ci dice che si applica soltanto alla sanzione amministrativa poi volevo segnalare come è interessante un'altra sanzione che è quella sempre amministrativa per le violazioni ai divieti di discriminazione la normativa antidiscriminatoria come sappiamo in Italia purtroppo è una normativa un po' debole cioè una normativa molto forte nelle sue affermazioni anche abbastanza pervasiva però diciamo da quello che si sa è anche una normativa piuttosto debole nell'applicazione la norma sulla non discriminazione che poi in realtà è una norma di parità di trattamento dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato nel caso di violazione viene oggi assistita da una sanzione di carattere amministrativo questo l'ho notato come un elemento sicuramente di novità rispetto al passato rispetto a questo impianto quindi cadono tutte quelle ricostruzioni interpretative che avevano affaticato la giurisprudenza e la dottrina negli ultimi anni precedenti alla riforma e che avevano cercato di sopperire appunto con i principi e le categorie generali la mancanza di alcune norme espresse di sanzione e faccio riferimento ad esempio a tutta la teoria relativa al rapporto appunto tra tempo indeterminato e termine per poter ricavare diciamo quel principio generale di indeterminatezza del rapporto che consentiva quindi a fronte di legittimità e requisito sostanziale di ricondurre il rapporto al tipo generale la normativa sulla risoluzione per mutuo consenso in caso di inerzia del lavoratore nell'impugnazione del termine legittimamente imposto su questo si rimedia perché abbiamo avuto l'introduzione già dal 2010 di un termine perentorio di decadenza dell'impugnazione questo dovrebbe quindi superare tutto un processo interpretativo che diciamo era stato elaborato sul contratto a termine a questo punto abbiamo tutta una serie di dispositivi che ci consentono di superare questa interpretazione viene riportato e replicato nel testo del Jobs Act la norma sull'indennizzo sul danno punitivo sostanzialmente che è quello che era contenuto nell'articolo 32,5 del collegato lavoro e che prevedeva sostanzialmente riscritto nell'articolo 28 del decreto 81 e che prevede sostanzialmente che nel caso di trasformazione del rapporto del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato il lavoratore ha diritto ad una indennità risarcitoria forfettizzata il termine risarcitoria diciamo un po' ambiguo perché non è tanto una posta di risarcimento del danno perché è un vero e proprio indennizzo diciamo forfettizzato dal legislatore e che quindi prescinde dalla prova del danno prescinde anche dall'esistenza del danno è in ogni caso dovuta al lavoratore come quindi una penalità che il datore di lavoro subisce nel caso di utilizzo illegittimo del contratto nei casi più gravi quindi quelli di trasformazione del rapporto ed è un'indennità compresa tra due e mezzo e dodici mensilità che il giudice che deve determinare nella misura concreta in base ai principi dell'articolo 8 della legge 604 del 66 questa diciamo indennità in realtà era già prevista dal collegato lavoro del 2010 poi ha generato diciamo dei problemi interpretativi è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che ne ha accertato la costituzionalità è stata soggetta a una norma di interpretazione autentica nel 2012 e quindi oggi viene riprodotta diciamo avendo quasi una garanzia di conformità costituzionale perché sulla stessa norma la Costituzione si era già la Corte Costituzionale si era già pronunciata e quindi abbiamo una sanzione particolare per l'utilizzo illegittimo del contratto a termine e che è una sanzione che spetta in ogni caso al lavoratore e come abbiamo detto prescinde dall'onere della prova del danno e ha quindi una valenza generale e diciamo è inrilevante se il lavoratore abbia o non abbia avuto altre fonti di reddito tra diciamo il momento dell'illegittima chiusura del rapporto e quello della dichiarazione di illegittimità del contratto a termine su questo ritorneremo adesso subito quando parliamo dell'apparato sanzionatorio nel settore pubblico quindi per chiudere la mia su questa prima parte sul lavoro diciamo privato la mia personale opinione è che si è fatto un avanzamento nei termini di certezza delle regole ritengo personalmente che la normativa sia pienamente conforme alla ispirazione antiabusiva della direttiva europea perché concretizza la misura antiabusiva prevista dall'articolo 5 della clausola 5 della direttiva che è quella di porre un limite massimo di 36 mesi quindi di durata dei contratti è una normativa che articola le esenzioni in relazione alla gravità della violazione e da questo ci appare con evidenza che non è tanto diciamo la precarietà in generale che conta conta ovviamente anche quella perché è sanzionata quindi ci mancherebbe altro ma quella che è diciamo il requisito sostanziale oggi di apposizione del termine è un requisito di carattere quantitativo riferito alla durata del rapporto col medesimo lavoratore detto questo e rimanendo a sciogliere ovviamente qualche dubbio qua e là possiamo forse perché io non volevo occupare troppo tempo ovviamente sottraendolo a discussant e a voi semmai preferirei interloquire dopo e vorrei invece spostare l'attenzione sulla parte invece del lavoro pubblico ora qui la questione è piuttosto ingarbugliata perché la materia nel settore pubblico è come sappiamo tutti diciamo connotata da una specialità quando parliamo di apparato sanzionatorio nel contratto a termine che è il fatto che nel settore pubblico risulta inapplicabile costituzionalmente inapplicabile quella che è la sanzione principale che abbiamo nel settore privato cioè la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato questa preclusione nella trasformazione a tempo indeterminato del contratto illegittimamente diciamo stipulato nella pubblica amministrazione lo colleghiamo all'articolo 97 della costituzione essenzialmente quindi alla regola concorsuale che diciamo vincola gli accessi alla pubblica amministrazione all'espletamento delle procedure selettive aventi determinate caratteristiche ma anche al principio del buon andamento della pubblica amministrazione quindi l'articolo 97 ha diciamo questa è una costante direi nella giurisprudenza segnato la differenza sostanziale dell'apparato sanzionatorio nel contratto a termine del settore privato rispetto a quello pubblico qui però facciamo un passo indietro al settore pubblico si applica la disciplina del settore privato quindi il contratto a termine è disciplinato comunque prima lo era dal 368 del 2001 oggi dagli articoli corrispondenti del decreto 81 2015 quindi si deve partire da un presupposto che è quello che c'è una comune disciplina del contratto a termine del settore pubblico e del settore privato questa comune disciplina soffre alcune eccezioni tra cui per esempio il personale della scuola della sanità e quindi ci sono alcune discipline che sono completamente escluse ma salve l'esclusione noi abbiamo la regola dell'applicabilità della disciplina privatistica con diciamo due eccezioni quello dell'apparato sanzionatorio perché in nessun caso la violazione delle norme su contratto a termine può portare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto e in secondo luogo perché si dice chiaramente che non si applica la normativa sulla precedenza che invece diciamo connota la disciplina del settore privato ora la norma di riferimento che ci fa questo rinvio alla disciplina privatistica è l'articolo 36 del test unico sul pubblico impiego questo articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001 è stato recentemente modificato da decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge Madia che è stato pubblicato in una zetta ufficiale una settimana fa ed è il decreto legislativo 75 del 2017 questo decreto legislativo 75 17 riscrive il 165 del 2001 cioè il test unico pubblico impiego riscrive anche l'articolo 36 sull'articolo 36 vengono apportate alcune modifiche ma si ricalca in linea generale l'impianto che questo già aveva precedentemente e quindi qual è la specialità che viene riconfermata da questa normativa rispetto a quella precedentemente in vigore relativamente a pubblico impiego che si applica il decreto legislativo 81 2015 ma il ricorso del contratto a termine nell'APA deve essere sorretto anche da speciali esigenze tecnico produttive della pubblica amministrazione quindi ci deve essere un requisito oggettivo sostanziale che quindi introduce nei requisiti direi quindi nei limiti sostanziali di ricorso a questo contratto qualcosa che nel settore privato è completamente scomparso cioè il requisito oggettivo il requisito sostanziale che con il decreto 81 è stato completamente cancellato per quello che abbiamo detto prima nel settore pubblico anche questa ultima riforma riproduce la previsione contenuta anche nella precedente per cui ci dice che si può far ricorso al contratto a termine per comprovare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e quindi noi qui abbiamo un riferimento esplicito delle esigenze quindi esigenze funzionali organizzative produttive della pubblica amministrazione che non soltanto quindi sono soggette a verifica e a valutazione ma debbono essere anche connotate dalla eccezionalità e dalla temporaneità e quindi devono avere anche una loro connotazione perché tendo a dire questo perché quello che emerge fortissimamente da questa quindi sovrapposizione di norme è che ormai il contratto a termine pur se si applica diciamo la disciplina privatistica corre su due binari piuttosto paralleli e non che non si intersecano tanto dal settore pubblico e dal settore privato in che senso ormai nel settore privato non si potrà mai verificare un utilizzo improprio del lavoratore a termine fin tanto che noi avevamo delle ragioni giustificative del termine che erano collegate a particolari esigenze tecnico-produttive non soltanto queste dovevano esistere al momento della posizione del termine ma dovevano ovviamente persistere nel corso del rapporto e fungevano da un limite intrinseco di utilizzo della prestazione del lavoratore a termine e quindi fungevano da limite allo use variandi anche datoriale al potere di modifica delle mansioni perché il potere di modifica delle mansioni quando avevamo il contratto a termine chiamiamolo così causale doveva e si poteva esplicare in modo compatibile con le ragioni giustificative del termine se si determinava una deviazione da quelle avevamo appunto un utilizzo improprio del contratto a termine la mancanza dei requisiti di sostanza oggi questo tipo di evenienza nel settore privato non si potrà mai porre perché nessuno più andrà a vedere il motivo per cui il termine è stato apposto e quindi sul contratto a termine del settore privato abbiamo avuto una riespansione totale di quelli che sono i poteri di impiego del lavoratore non c'è più un limite di impiego del lavoratore a termine perché non abbiamo più un'esigenza di coerenza con una ragione che non esiste più a giustificarlo viceversa nel settore pubblico noi abbiamo un limite che non soltanto persiste ma è connotato in modo forte per cui il lavoratore a termine diciamo può essere impiegato solo esclusivamente su attività e mansioni coerenti con la ragione che ne ha giustificato l'assunzione che era una ragione straordinaria eccezionale e così via quindi questo determina sul piano proprio sostanziale a mio avviso una diverificazione fortissima dei requisiti non solo di sostanza ma anche nell'impiego dei lavoratori nel settore pubblico e nel settore privato nel settore privato ormai il lavoratore a termine è totalmente fungibile o quello a tempo indeterminato nel settore pubblico questo non può avvenire detto questo noi abbiamo nel settore pubblico una norma quindi peraltro che ci dice ci spiccia anche la questione dei rapporti che ci sono tra la disciplina pubblicistica e quella privatistica ci dice i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 seguenti del decreto legislativo 81-2015 escluso il diritto di precedenza che si applica solo al personale reclutato secondo le procedure selettive dell'articolo 35 lettera B poi abbiamo una norma che ci dice che la disciplina privata detto questo quindi posto il punto che si applica alla disciplina 81 con quella particolarità però che vi ho appena detto non indifferente c'è una norma che ci dice in ogni caso le discipline private si applicano al settore pubblico solo nella misura in cui espressamente lo prevedono questa previsione ci segna ormai il tramonto di un'idea diciamo di completa privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico cioè ci conferma ancora una volta che il rapporto di lavoro pubblico continua ad avere una sua specialità di disciplina e la continua ad avere sempre di più per cui la disciplina privatistica si applica nei limiti in cui lo decida il legislatore del lavoro pubblico non possiamo quindi dare più niente per scontato e quindi successive eventuali discipline le potremo applicare in solo una misura in cui vengono espressamente richiamate detto questo arriviamo al nodo se non si può applicare la sanzione quella tipica diciamo così che nonostante la graduazione che abbiamo visto continua ad essere la sanzione principale del contratto a termine cioè la trasformazione a tempo indeterminato la disciplina del contratto a termine del settore pubblico è sufficientemente diciamo conforme a quelli che sono i dettami della direttiva europea la direttiva europea è diciamo certo su questo non ci può essere alcun dubbio che si applica tanto diciamo al settore pubblico al settore privato quindi anche la disciplina al settore pubblico deve essere conforme alla direttiva e quindi deve avere in sede i dispositivi normativi atti a prevenire gli abusi ad essere quindi sufficientemente diciamo calibrati in modo tale da prevenire l'abuso del contratto a termine ora che ci siano le norme antiabuso direi che non c'è alcun dubbio abbiamo detto che non soltanto condivide col settore privato la disciplina dell'81 e quindi ci sono i 36 mesi ci sono tutte le normative sulle percentuali eccetera ma abbiamo visto che nel settore pubblico abbiamo una DPU che è sempre in misura sicuramente in chiave antiabusiva che è quella del ricorso soltanto a fronte esigenze eccezionali e temporanea che non abbiamo neanche più nel settore privato quindi si può dire che la normativa del settore pubblico è addirittura più restrittiva di quella del settore privato sotto il profilo della normativa di prevenzione della PUS non soltanto nel settore diciamo pubblico solo apparentemente l'apparato sanzionatorio è più debole solo apparentemente questa almeno è la mia idea perché mentre nel settore privato abbiamo detto l'apparato sanzionatorio si sostanzia nella trasformazione del rapporto o nella sanzione amministrativa nel settore pubblico l'apparato sanzionatorio prevede ed è disciplinato all'articolo 36 sempre del testo unico che il lavoratore abusivamente diciamo così impiegato a termine ha diritto al risarcimento del danno e quindi c'è un rimedio sanzionatorio ma non è questo soltanto il lavoratore diciamo che sia stato impiegato illegittimamente a termine determina scusate il bisticcio una responsabilità dei dirigenti che sono diciamo responsabili di questa violazione in termini di responsabilità erariale con obbligo dell'amministrazione di recuperare le somme che abbiano diciamo dovuto versare al lavoratore per e questa responsabilità erariale nel caso di dolo o colpa grave ma c'è anche una responsabilità dirigenziale dei dirigenti quindi nella valutazione della loro performance e del loro incarico dirigenziale c'è poi la perdita della retribuzione di risultato per il dirigente responsabile e poi ovviamente c'è ma quella non è una sanzione diciamo il diritto del lavoratore ad essere retribuito e a vedere la contribuzione versata per i periodi di impiego illegittimo in base all'articolo 2127 del codice civile quindi se dobbiamo parlare di un apparato rimediale nel settore pubblico lo vediamo che questo è conformato in modo diverso ovviamente rispetto al settore privato non si basa sulla sanzione restitutoria diciamo così e della trasformazione del rapporto di lavoro si basa su un diverso meccanismo che è quello risarcitorio e quello punitivo dei dirigenti responsabili queste norme esistono poi se vengano applicate o meno un altro paio di maniche però esistono quindi nell'ordinamento noi ce l'abbiamo i dispositivi rimediali nella direttiva europea noi non abbiamo delle norme vincolanti che obbligano il legislatore nazionale ad adottare un rimedio piuttosto che un altro una sanzione piuttosto che un'altra su questo c'è la completa discrezionalità del legislatore nazionale il legislatore nazionale è tanto diciamo investito di questa discrezionalità che può anche articolare e differenziare le sanzioni per settori o per gruppi di lavoratori ovviamente sempre nei limiti di razionalità qui abbiamo la specialità del rapporto pubblico impiego e quindi insomma è stato giudicato dalla Corte Costituzionale in più occasioni totalmente legittimo e razionale la diversa articolazione dell'apparato sanzionatorio ora qual è il punto il punto non è l'esistenza di un apparato rimediale differenziato questo è chiaro che c'è non può non esserci dato il vincolo costituzionale articolo 97 il punto è se questo apparato sanzionatorio sia sufficientemente dissuasivo rispetto agli abusi e quindi qua si inserisce un elemento che ricaviamo da tutta una serie di anche sentenze della Corte di Giustizia europea che è quello che posto che il legislatore nazionale ha la piena discrezionalità di stabilire le sanzioni che meglio crede anche fossero solo sanzioni amministrative queste sanzioni debbono essere dotate del carattere della effettività della dissuasività e quindi della capacità di prevenzione dell'abuso su questo elemento quindi ci si è concentrato in particolare per valutare se il risarcimento del danno dovuto al lavoratore per violazione della normativa sul contratto a termine che poi la sanzione principale dell'articolo 36 prevede sia sufficientemente dissuasiva dell'abuso e quindi su questo abbiamo avuto una Corte di Giustizia un'ordine della Corte di Giustizia nella causa Papalia che ci ha detto che questa sanzione risarcitoria non è sufficientemente dissuasiva se noi la interpretiamo come dovremmo interpretarla in base al testo dell'articolo 36 come un vero e proprio risarcimento del danno perché se il rimedio per la violazione della norma è che il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno in base alle regole generali sul risarcimento del danno il lavoratore sarebbe onerato dell'onere della prova del danno subito per la violazione e quindi questa prova che poi dovrebbe essere la prova essenzialmente della perdita di chance si configura come una prova difficile per il lavoratore non sempre accessibile e quindi questo sistema di rimediale incentrato sul risarcimento viene valutato dalla Corsa di Giustizia non sufficientemente dissuasivo rispetto a condotti illegittime e perché non procura una tutela sufficiente ai lavoratori contro gli abusi questo ha determinato una diciamo sviluppo della delle degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si è quindi in qualche modo concentrata sull'interpretazione di questo termine risarcimento del danno nell'articolo 36 per cui mentre prima era prevalente un orientamento almeno nella Cassazione che ci dava un'interpretazione classica di risarcimento del danno quindi non un danno in re ipsa ma un danno che il lavoratore deve dimostrare ha preso piede dopo questo pronunciamento della Corte di Giustizia Europea invece un altro orientamento che ha individuato in questo risarcimento qualcosa che nulla a che vedere con il risarcimento in senso proprio ma ha visto questo invece ha interpretato questo come una vera e propria diciamo sanzione il cosiddetto danno comunitario questo che cosa vuol dire una penale un danno punitivo quindi che non è un vero e proprio danno ma è una sanzione che l'amministrazione subisce per l'uso illegittimo del contratto a termine che quindi è sempre dovuta a prescindere dalla prova e quindi è dovuta in modo in re ipsa per la violazione della norma di legge detto questo e quindi direi che su questo possiamo ritenere ormai prevalente e consolidato la posizione che era avvisa nell'articolo 36 lei un danno in senso comunitario cioè quindi un danno comunque da ristorare si è aperto sempre in seno alla Cassazione un dibattito in relazione alla criteri di commisurazione di questo danno comunitario cioè posto che il danno va sempre riconosciuto e quindi va creato diciamo un criterio di commisurazione di esso si è di nuovo creato diciamo un'incertezza in giurisprudenza sui criteri di commisurazione di questo danno e quindi c'è chi lo ha essenzialmente voluto ravvisare nella perdita diciamo del posto di lavoro a tempo indeterminato e quindi si è diciamo data una interpretazione del danno generato dalla violazione come un danno da perdita del posto a tempo indeterminato allora se questo è il presupposto la sanzione e quindi il criterio di commisurazione di questo danno è stato attinto dalla disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo che è quella diciamo che più si avvicina all'idea di una diciamo privazione ingiusta di un posto a tempo indeterminato e quindi qui abbiamo avuto dei criteri che hanno dato applicazione alla normativa sulle 15 mensilità e più le 5 minimo di risarcimento del danno previsto dal vecchio articolo 18 oppure altri criteri che comunque hanno per varie approssimazioni voluto dare un valore al posto a tempo indeterminato rispetto a questa posizione sono sempre stata piuttosto critica perché qui il danno non può essere configurato come la privazione di un posto a tempo indeterminato perché il diritto di un posto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione per privazione e contratto a teme non si ha proprio non si ha mai quindi non possiamo configurare il danno nella privazione di un rapporto a tempo indeterminato giacché questo diritto al rapporto a tempo indeterminato non c'è allora il danno deve essere rapportato ad un altro criterio e qui diciamo è intervenuta una sezione unite recentemente nel 2016 che è la 10.000 la 5.072 che ha posto diciamo un punto fermo ha cercato di comporre diversi orientamenti e ha proprio diciamo affermato questa cosa che vi ho appena detto cioè che siccome non è ipotizzabile anzi è costituzionalmente non ipotizzabile un diritto al rapporto a tempo indeterminato del lavoratore a termine legittimamente impiegato nell'APA la misura di questo indennizzo cioè del danno comunitario non potrà mai essere rapportata al valore della privazione di un posto a tempo indeterminato e quindi va rapportata ad un altro danno che è quello derivante dalla violazione del contratto a termine e che questa scassazione a sezione unite ravvisa nel indennizzo forfettizzato di cui prima vi ho detto che era previsto dall'articolo 32,5 del collegato lavoro che oggi è preso l'articolo 28 del decreto 81 che è quello che prevede quell'indennizzo quel danno punitivo che vi ho detto prima tra un minimo di 2,5 e massimo 12 mensilità che poi è il giudice a declinare e a specificare in relazione ai parametri dell'articolo 8 quindi tenendo conto anche del numero dei dipendenti dell'anzianità del lavoratore delle condizioni delle parti in questo modo si è creata una situazione diciamo di bilanciamento da un lato si è data una diciamo idea che c'è una sanzione automatica per la violazione della normativa sul contratto a termine nel settore pubblico che prescinde dalla prova del lavoratore prescinde proprio dall'esistenza del danno che quindi è diciamo scatta automaticamente la misura viene ravvisata nell'articolo 28 del decreto legislativo 81 e esclusivamente in questo e quindi vengono completamente superate quelle ricostruzioni che avevano diciamo prefigurato altri possibili criteri di quantificazione in specie quelli che si collegavano alla normativa sanzionatoria per il licenziamento illegittimo quindi dal contratto a tempo indeterminato come valuto questa sentenza a sezioni unite io la valuto abbastanza positivamente perché penso che possa essere considerato un giusto punto di equilibrio non soltanto perché la Cassazione anche se poi diciamo fa una certa forzatura diciamoci la verità la Cassazione a sezioni unite perché quell'indennizzo lì 2,5 12 si accompagna nel settore privato alla trasformazione a tempo indeterminato mentre nel settore pubblico diventa diciamo una sanzione esclusiva per di più diciamo ha dovuto interpretare la normativa la Cassazione perché insomma quell'indennizzo è collegato scindibilmente alla trasformazione a tempo indeterminato quindi questa interpretazione della Cassazione è una interpretazione piuttosto creativa però come dice la Cassazione è conformatrice della norma interna rispetto alla direttiva comunitaria quindi è una interpretazione comunitariamente diciamo orientata quindi qui la Cassazione dice mentre nel settore privato quell'indennizzo lì tra 2,5 e 12 soddisfa ogni e qualsiasi danno il lavoratore non potrà chiedere danni ulteriori rispetto a quelli nel settore pubblico diciamo quello è un indennizzo che va sicuramente riconosciuto salva la prova del maggior danno quindi nel settore pubblico c'è questo punto di avanzamento della sezione inite che dice quello è il minimo diciamo il minimo sindacale tra 2,5 e 12 mensilità più il lavoratore ha la possibilità di provare il maggior danno cosa che sarebbe preclusa nel settore privato perché valuto positivamente perché in qualche modo risolve una questione che altrimenti rimaneva aperta da un'interpretazione orientata dell'articolo 36 di quel termine risarcimento del danno da una soddisfazione al lavoratore che potrebbe apparire parziale però dobbiamo dire anche che è una soddisfazione automatica dovuta in ogni caso e quindi presenta quegli elementi diciamo di agevolazione nella richiesta e nella soddisfazione che sicuramente le categorie civilistiche del risarcimento del danno non consentirebbero e quindi mi sembra che costituisca una interpretazione equilibrata e che mi auguro ponga termine a questa diciamo proliferazione di interpretazione che si sono avute negli ultimi anni a questo proposito e abbia quindi dato un minimo di certezza rispetto a questo poi c'è tutto un nuovo spaccato che però io non tratto perché ho preso troppo tempo che è quello del precariato cosiddetto nella scuola dove diciamo voi sapete abbiamo una disciplina che si è distaccata da quella generale del pubblico impiego perché consentiva diciamo la reiterazione delle supplenze anche diciamo di anno in anno senza limiti diciamo dei 36 mesi eccetera e su questo però non mi pronuncio semmai ritorniamo dopo se c'è un interesse oppure forse qualcuno dei discussant l'affronterà quindi io mi fermerei qui e mi sembra che quindi il punto di approdo oggi della normativa del settore pubblico dell'apparato rimediale è che abbiamo un sistema rimediale che si è molto concentrato sulla sanzione risarcitoria e su questo ha fatto questo lavoro di interpretazione e di interpretazione diciamo adeguatrice ma si tende però a trascurare quello che ho cercato di dire all'inizio quando ho affrontato questo che nel settore pubblico la sanzione risarcitoria se così la vogliamo diciamo denominare non è l'unica sanzione c'è un sistema ampio in cui questa si inserisce e che prevede come abbiamo visto prima delle norme di prevenzione più restrittive e delle sanzioni che vanno a colpire o che dovrebbero andare a colpire in modo forte il dirigente responsabile quindi essere fortemente dissuasive ecco poi qui si pone un problema di effettività ma le amministrazioni queste norme dissuasive che sono pur sempre norme dissuasive in senso comunitario le applicano o non le applicano quante volte i dirigenti responsabili delle violazioni sono stati chiamati a rispondere ecco questo è un profilo che però riguarda l'effettività all'applicazione della norma più che la conformità della normativa rispetto alla direttiva io penso che la conformazione della nostra normativa del settore pubblico sia diciamo adeguata sia coerente con quelli che sono i principi della direttiva comunitaria mi fermo grazie Silvia per la relazione dettagliata e direi anche completa hai toccato tutti gli aspetti e messo in evidenza diverse criticità fornendo puntuali soluzioni ai problemi che di volta in volta sollevavi io avrei diverse domande da porre ma penso che io come molti del pubblico però direi che prima sentiamo i discuss iniziando dal dottor Giorgio Flai la chiarezza cristallina con cui la professoressa Ciuciovino espone le proprie tesi le proprie opinioni mi induce a dare un taglio come dire o meglio a dare una a trattare l'argomento da un punto di osservazione che è quello del giudice del giudice del lavoro in particolare e del giudice del lavoro di merito specificamente su questo oggi la professoressa dice il giudice ha poco da interpretare ha scritto con grande chiarezza in punto presupposto giustificativo che le nuove norme azzerano ogni sindacato giudiziale sulla motivazione economica sottostante alla scelta datoriale di ricorso al lavoro temporaneo in punto sanzioni limita drasticamente la discrezionalità giudiziale nella repressione delle violazioni rendendo in altresi prevedibili i costi e le conseguenze converrete che come dire un certo sentimento riconducibile a una sorta di crisi non dico di identità ma di ruolo un pochino ci sia e devo dire io non mi riferisco a quel come dire alla mancata possibilità di sanzionare quello che la professoressa Cucciovino con grande come dire schiettezza parla di quello che era una volta l'utilizzo inquinato e viziato del contratto di lavoro determinato per eludere l'applicazione dell'articolo 18 io devo dire che come dire se devo esprimere un sentimento personale laddove come dire o annullavo licenziamenti o convertivo contratti a termine non è che tornassi a casa particolarmente soddisfatto o più soddisfatto nell'ipotesi in cui avessi regettato le domande quindi non è questo il punto il punto è quando si dice che l'opera del giudice del lavoro l'esercizio del sindacato del giudice del lavoro sui presupposti di utilizzo del contratto a termine comportava una totale imprevedibilità delle decisioni giudiziarie e la conseguente incalcolabilità dei costi per l'impresa allora la domanda come dire che mi faccio che credo insomma chi mi conosce poi sa che sono del tutto alieno da tendenze corporative quello che mi domando è l'utilità della giurisdizione il ruolo del giudice in questa materia perché detta così come dire sembrerebbe che sia un inciampo un qualcosa che se non ci fosse sarebbe meglio sempre la professoressa nel suo scritto dice questa imprevedibilità questa incalcolabilità deriva da sostanzialmente tre fattori l'abbandono della flessibilità negoziata il precetto generale aperto l'incompletezza e l'indeterminatezza del sistema sanzionatorio che si contrappone a quello che oggi è la restituzione di un considerevole spazio all'autonomia privata l'abbandono della norma generale sostituita da limiti di carattere quantitativo un dettaglio in modo puntuale e minuzioso delle singole sanzioni per ciascuna violazione mi soffermerò sui due aspetti configurabilità come dire dei limiti e profili sanzionatori mentre lascio da parte anche perché ne so poco obiettivamente la questione dell'autonomia privata collettiva sulla quale io devo dire che rispetto poi a quello che dirò dopo credo che l'autonomia privata collettiva potrebbe essere come dire un buon linea di incontro tra quello che è detta in maniera molto sintetica la norma generale astratta che necessariamente pone il legislatore e la regola del caso concreto che elabora il giudice ma parte questo allora io credo però che le scelte precedenti appunto in termini di precetto generale di incompletezza non è che fossero può esserci può anche esserci in parte come dire il legislatore talvolta è negligente talvolta compie degli errori consapevoli ma questo non è questo ma al netto di questo cioè io credo che sia le scelte precedenti sia quelle successive siano frutto di scelte consapevoli quelle che vengono chiamate scelte di natura politica e sarà l'unico l'unico a volta che non mi non ho questa parolaccia dico che non è indifferente come la norma giuridica costruisca la fattispecie e in particolare se tende alla tassettività o all'utilizzo di concetti indeterminati o addirittura di clausole generali perché questo comporta delle conseguenze diverse sul piano delle modalità di applicazione la tassettività privilegia la prevedibilità delle decisioni giudiziarie sia in punto presupposto fattispecie sia in punto effetto sanzioni con i relativi costi minori costi economici e questo cosa esige esige che queste decisioni siano il più possibile meramente applicative dei canoni di valutazione dettati dalle norme di legge generale astratte e quindi queste decisioni siano adottate attraverso appunto criteri generali astratte l'utilizzo da parte del legislatore di concetti giuridici indeterminati e clausole generali invece ecco non è poi così come dire del tutto negativo però perché altrimenti non si capirebbe perché il legislatore in Italia ma non solo poi faremo un piccolo ha un vantaggio cioè l'individuazione della regola del giudizio più attenta alle circostanze del caso concreto questo indubbiamente è un vantaggio secondo me mutano i ruoli svolti dal legislatore e dal giudice e si tratta di un mutamento non solo di natura soggettiva ma muta anche il livello di concretizzazione della norma generale astratta mi pare abbastanza come dire evidente che un conto è decidere una controversia mediante una pedisica applicazione dei parametri generali astratti un conto è decidere sulla base di una regola del caso concreto che il giudice ha individuato ovviamente considerando in primo luogo la portata precettiva della norma di legge ma poi adattandola alle peculiarità delle vicende oggetto del giudizio tutta questa lunga chiacchierata la vorrei portare rispetto ai due temi che attengono il rapporto di lavoro subordinato il rapporto di contratto a termine il problema del presupposto giustificativo e di quello delle sanzioni qui si è passati da un precetto generale aperto imperiato si dice sulla sussistenza di indeterminate esigenze produttive a limiti di carattere quantitivi certi agevolmente verificabili durata percentuali massimo segnalo una cosa che poi sarà poi il punto finale il legislatore italiano interviene su una materia che non è una materia come dire una tabula rasa ma è una materia che il legislatore europeo ha ritenuto di disciplinare ma tornando alle cose case di casa nostra allora come analizzarlo questo cambiamento cioè si è passati da una tecnica normativa scellerata ad una tecnica tutta rosa e fiori io credo che se si rispondesse positivamente a me non sembra come dire una risposta condivisibile e devo dire anche forse leggermente provinciale per quello che dirò dopo perché in verità al netto appunto degli errori che talvolta il legislatore compie non esistono tecniche normative buone e tecniche normative cattive ma la loro diversità deriva dalle scelte che il legislatore compie sul piano delle tutele giuridiche attribuite ai vari interessi in gioco e cosa significa in questo caso nel nostro caso la portata precettiva del concetto giuridico indeterminato consisteva come ha chiarito la giurisprudenza nella consueta opera di concretizzazione dei concetti giuridici indeterminati delle clausole generali perché non è che la norma rimane come dire del tutto incerta esiste questa opera della giurisprudenza sulla quale come dire si possono avere opinioni diversi ma comunque c'è una specificazione delle clausole generali si diceva nella necessità la qual era la portata precettiva di questo concetto giuridico indeterminato nella necessità di un nesso tra la durata soltemporanea della prestazione con l'attività che il lavoratore sarebbe stato adibito nello svolgimento della prestazione temporanea e con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro che la prestazione temporanea del lavoro avrebbe soddisfatto quindi esigenze temporanee in contrapposizione a quelle di natura durevole sottese al contratto di lavoro ordinario a riflettere però esigere che ai figli di una valida posizione del termine finale al contratto di lavoro vi fosse uno specifico interesse datoriale coerente con la natura temporanea della prestazione cosa comportava sul piano dogmatico secondo me secondo me mi pare di aver trovato qualche conferma di questa mia impressione comportava che la causa del contratto di lavoro a termine fosse diversa da quella del contratto a tempo determinato cioè il contratto a tempo determinato si configurava come un tipo speciale di contratto di lavoro subordinato per il quale coerentemente il legislatore dettava una disciplina speciale questo significava che per poter attribuire una durata limitata agli effetti del contratto di lavoro subordinato non era sufficiente la sola volontà delle parti ma era necessario un elemento di natura oggettiva quella che i tedeschi chiamano sachgrund l'esistenza di uno specifico interesse datoriale diverso e ulteriore rispetto a quelli che concorrono a integrare la causa dell'ordinario contratto di lavoro subordinato quindi in definitiva con la cancellazione del concetto giuridico indeterminato non c'è solo una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziari in punto presupposto fattispecie ma vi è una fattispecie diversa costituita essenzialmente dalla volontà delle parti in quanto depurata da elementi di natura oggettiva il che mi sembrerebbe di dire che in una relazione che materialmente non è paritaria comporta delle conseguenze non solo a livello di strumenti giuridici utilizzati ma anche in termini di tutela degli interessi in gioco il contratto di lavoro a tempo determinato oggi è la stessa causa dei contratti di lavoro a tempo determinato infatti la professoressa Ciucciolino parla di fungibilità tra i due contratti atteso che il requisito della durata attiene unicamente alla quantità del termine e quindi all'elemento accidentale del contratto il carattere temporaneo durevole degli interessi che il datore di lavoro intende soddisfare attiene alla sfera dei motivi perché non incide sulla disciplina giuridica applicabile vengo al punto questa identità di causa tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato cioè l'identità degli interessi giuridicamente rilevanti perseguiti con l'uno e con l'altro contratto può comportare qualche problema sul piano della compatibilità con il diritto all'Unione Europea è vero che una delle tre misure previste dall'articolo 5,1 dell'accordo è costituito dalla fissazione di una durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi però è noto che la Corte di Giustizia che cito Fiamingo 2014 dove espressamente si dice che ai fini di tale attuazione uno Stato membro è legittimato a scegliere di non adottare la misura di cui al punto 1 lettera di detta clausola consistente appunto alle zone obiettive e viceversa può preferire l'adozione di una delle misure o le due misure di cui al punto lettera B e C della medesima clausola purché e questo è il punto quale che sia la misura in concreto adottata venga garantita l'effettiva prevenzione dell'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ma quello che mi colpisce e mi fa dubitare o quantomeno non essere così convinto che si dice si sia raggiunta la certezza delle regole si dice la corte dice non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del diritto interno dato che questo compito spetta esclusivamente al giudice del rinvio e quindi spetta pertanto al giudice del rinvio valutare in che misura i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno costituiscono una misura adeguata per prevenire e se del caso punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato ma non è che la regola del caso concreto come dire cacciata via come dire in maniera anche perentoria e forse senza il riconoscimento di una qualche funzione positiva rientri dalla finestra perché poi qui si tratta di capire perché poi è il giudice non è il giudice di Cassazione è il giudice del merito cioè il giudice del merito ha di fronte un fatto e dovrà valutare se quello che dice la corte di giustizia cioè non dovrà limitarsi a come dire valutare la compatibilità astratta della norma interna con la norma comunitaria ma dovrà stabilire se in quel caso concreto la norma interna realizza quello che viene chiamato l'obiettivo in maniera specifica viene indicato come obiettivo della direttiva in particolare dell'accordo che viene ricepito in punto sanzioni il discorso è abbastanza analogo secondo me segnalo una cosa abbastanza curiosa secondo me in punto sanzioni il legislatore italiano se lo confrontiamo con il legislatore tedesco e quindi non con qualche paesino mediterraneo gravato eccetera c'è una sorta di scambio di ruoli in questo senso così per non offendere nessuno se noi compariamo il legislatore a due mestieri entrambi nobili quello del boscaiolo e quello dell'orafo a me sembrerebbe che in punto presupposto giustificativo il legislatore italiano parlo quello del 2014 2015 ha voluto fare il boscaiolo cose chiare cose nette cose precise se noi però come dire superiamo il Brennero in Austria non saprei dire perché le mie conoscenze sono limitate ma quindi custa mi pare troviamo una situazione che è abbastanza stupefacente perché lì troviamo un legislatore orafo cioè troviamo un legislatore che sostanzialmente a parte l'Arts 4 a parte la normativa sostanziale della Germania è sostanzialmente la stessa dal come dire dal dopoguerra perché lì adesso io entro in terreni ho il professor Nogler davanti e quindi mi sento uno scolaretto ma insomma sostanzialmente la legislazione tedesca anche attuale ha recepito quelli che erano stati gli orientamenti del Tribunale federale del lavoro su questioni che devo dire insomma rispetto all'obiettivo della certezza del diritto beh sono questioni che sembrerebbe voglio dire che se si dovessero applicare le categorie italiane in Germania in Germania dovrebbe dominare la completa incertezza perché adesso io sto pensando insomma in Germania hanno ancora il catalogo come nella legge del 62 hanno ancora il catalogo rispetto a situazioni in cui però io vado molto situazioni in cui la discrezione del giudice è estremamente ampia ci sono ipotesi in cui è il giudice che decide se si è corretto cioè la legge non prevede una durata predeterminata del contratto di lavoro è il giudice che nel caso concreto che stabilisce se quella contratto quella clausa appositiva del termine soddisfa o meno oppure elude le ragioni le 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 tutele previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato esattamente il contrario succede invece in punto sanzioni cioè in Italia in Italia in punto sanzioni il legislatore si mette a fare l'orafo e allora comincia a distinguere comincia a introduce questo non è una responsabilità del job sarà una responsabilità prima cioè introduce questa sorta di indennità che ha una funzione che ha dei collegamenti per l'amore di Dio dichiarata legittima dalla corte costituzionale ma che non si capisce bene se è una funzione risarcitoria cioè se avesse una funzione risarcitoria sarebbe come dire una cosa abbastanza irragionevole infatti le giurisdizioni superiori hanno dovuto dire che è una funzione indennitaria in Germania correggetemi se sbaglio si dice semplicemente che se la clausola positiva del termine è difforme alla normativa alla disciplina è inefficace a prescindere da quello che è come dire la natura del vizio e il luogo del contratto di lavoro a tempo determinato vi è un contratto di lavoro a tempo indeterminato dico che fa il boscaiolo perché prevede noi ci abbiamo messo non so quanti anni a introdurre un termine che probabilmente avrebbe risolto moltissimi problemi poi quando l'abbiamo come dire abbiamo pensato di introdurlo allora il 32,5 è stato modificato non so quante volte poi è stato distinto l'impugnazione stragiudiziale poi quella giudiziale poi sono stati capiti in termini mi pare di aver capito che in Germania se il lavoratore non impugna non inizia la causa non esercita tra azioni giudiziarie entro tre settimane tre settimane il decale sulle sanzioni sulle sanzioni io dico è proprio vero e la realtà come dire materiale a fronte di questo grande lavoro come dire di specificazione fatto dal legislatore del 2015 cioè è proprio vero che poi dico l'interprete e quindi ci metto dentro tutti l'interprete in questo modo sarà esonerato dal prendere posizione circa la questione se quale sia il rapporto tra le norme di contratto del contratto a tempo indeterminato e le norme del contratto a tempo determinato cioè quali siano le conseguenze della violazione delle norme che disciplinano il contratto di lavoro a termine la disciplina precedente prevedeva la trasformazione del contratto di lavoro a termine nel caso di violazione della attiva disciplina in contratti di lavoro subordinato ordinario e questo avveniva attraverso lo strumento della nullità parziale in quanto le norme relative al contratto di lavoro a termine erano considerate norme imperative la cui violazione era sanzionata o dalla nullità testuale o dalla 1418,3 o dalla virtuale 1418,1 ora laddove il legislatore non prevede la trasformazione la nullità non opera più perché questo è poi in realtà quello che oggi avviene rispetto a quello che succedeva prima si tratta di una scelta ovviamente legittima ma ancora una volta non è detto che sia quella tecnicamente migliore ma è una tecnica alternativa a una diversa opzione in ordine alla tutela dell'interesse in gioco che fondava una disciplina che non era del tutto eccentrica tanto da trovare largo spazio nel diritto civile i cui studiosi da tempo discutono senza però che nessuno pensa di abrogare il 1418,1 discutono evidentemente convinti della loro utilità quella delle nullità virtuali e specialmente intorno ai criteri di individuazione delle norme che implicitamente assumono natura imperativa e comportano in caso di violazione la nullità del negozio di forme si è detto che si è passati dalla sanzione unica a una graduazione delle sanzioni e questo è avvenuto analogamente a quanto accade per il licenziamento però la graduazione delle sanzioni escludesi la sanzione unica ma introduce una nuova questione quella della congruità e ragionevolezza si potrebbe dire la proporzionalità nel caso di contesto disciplinare tra violazione e sanzione ovviamente la riforma renzia fin da subito sottratto al giudice del lavoro il potere di scelta della sanzione sia in tema di licenziamento sia in ordine al contratto a termine ma qui secondo me si potrebbero fare due osservazioni due che sono riferite al tema perché esclusa la proporzionalità giudiziaria rimane il problema della proporzionalità normativa vale a dire della ragionevolezza tra violazione e specie di sanzione applicabile come insegna la vicenda devo dire secondo me un po' surreale riguardante il fatto inesistente dell'articolo 18,4 che insomma la corte ha risolto facendo riferimento come dire alla nozione di fatto giuridico che si trova nei manuali di diritto privato l'altra questione è che anche su questo e la professoressa ne ha parlato però quando ne ha parlato del lavoro pubblico anche su questo noi sappiamo che il legislatore italiano deve muoversi nel contesto comunitario e infatti si dice che deve essere possibile applicare una misura dotata di garanzie effettive ed equivalenti di protezione dei lavoratori per punire debitamente detto abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione pongo una questione sulla quale non ho molto riflettuto ma pensando alla razio del limite quantitativo beh insomma a me sembrerebbe non mi pare di averlo letto ma insomma qual è lo scopo lo scopo è quello di far rientrare come dire la ragione tecnica la temporaneità delle prestazioni cioè perché si punisce un datore di lavoro che utilizza più del 20% i contratti di lavoro a termine perché a me sembrerebbe perché non si vuole che un'azienda soddisfi esigenze di natura durevole attraverso contratti di lavoro a termine e altra domanda ma la sanzione amministrativa potrebbe avere delle funzioni dissuasive ma ha una funzione protettiva cioè il lavoratore assunto dopo il 20% cioè che vantaggi ha da questo tipo di sanzione l'ultima cosa che dico io credo insomma il nuovo diritto del lavoro alla sua linearità però mi è permesso di dire che sta ignorando quello che sta avvenendo in altri settori del diritto in punto proprio potere giudizionale e faccio due esempi basta pensare ai poteri che il codice del processo amministrativo che sono anche qui attuazione di una normativa comunitaria attribuisce al giudice in ordine all'efficacia del contratto stipulato sulla base di un procedimento di evidenza pubblica viziata è il giudice che decide se quel contratto è efficace o non efficace quindi noi abbiamo la situazione oggi che il giudice amministrativo stabilisce se un contratto è valido o non è valido mentre invece i giudici del lavoro questa cosa non lo può fare e poi la giurisprudenza che si sta formando e che non è una sentenza isolata ma è stata più volte è un orientamento che è stato più volte affermato e confermato in tema di inefficacia dell'esercizio del diritto potestativo di recesso effettuato in violazione degli obbligi di correttezza e buona fede in quanto integrante un'ipotesi di abuso del diritto è la famosa sentenza ma è la prima e non è la sola in materia di recesso di una casa automobilistica nei confronti dei propri concessionari il che in questo clima di certezza del diritto noi oggi siamo in una situazione in cui in Italia nell'attuale momento storico le industrie automobilistiche devono preoccuparsi più per le tutele riconosciute ai loro concessionari che per quelle aspettanti ai loro lavoratori subordinati grazie grazie Giorgio anche per i puntuali rilievi critici che hai mosso alla relazione della professoressa Succio vino ho notato un po' di nostalgia rispetto alle decisioni del passato mentre un certo entusiasmo nel guardare al futuro da parte di Silvia forse forse il diciamo il punto che entrambi avete una certa condivisione però il punto che posso sbagliare il punto che entrambi avete considerato ma non avete diciamo così esplicitato è perché il sistema rimediale nel settore privato per un certo periodo ha avuto certe caratteristiche e diciamo l'istituto che ha determinato quel sistema è la mora del creditore e il fatto che l'applicazione della mora del creditore abbia portato a quelle che vale buona chiama le cause a valore crescente in relazione a quello che il legislatore è intervenuto per modificare l'apparato sanzionatorio ed è per quella ragione che l'attuale apparato sanzionatorio applica automaticamente cioè attenzione è la trasformazione del rapporto che determina l'applicazione della sanzione contingentata nella misura da 2,5 a 12 mensilità cioè il giudice ha certa resistenza di un fatto la violazione dei 36 mesi la violazione delle proroghe eccetera automaticamente trasforma e qui è il giudice proprio che è il braccio della legge è il braccio fortemente condizionato e aggiunge un indennizzo contingentato nel settore pubblico l'apparato sanzionatorio risulta diverso proprio sotto questo profilo ciò che il giudice non può fare è la trasformazione del rapporto e poi invece condannare automaticamente deve anzi condannare secondo la Cassazione automaticamente al versamento dell'indennizzo però qui è il legislatore sostanzialmente che ha superato i principi del diritto civile che la giurisprudenza aveva adottato per arrivare ad applicare un sistema rimediale che non era espressamente previsto è il legislatore che nella sua discrezionalità dice la Corte Costituzionale vieta l'applicazione di quel principio e stabilisce sanzione trasformazione e contingentamento dell'indennizzo passiamo la parola all'avvocato Bobbio per per la sua discussione grazie 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 professor Bolligo e a me tocca un argomento molto molto attuale molto caldo per la situazione che stiamo vivendo adesso con un contenzioso che coinvolge diciamo tutti i tribunali la Corte d'Appello oltre che le Corti superiori e l'argomento della scuola che purtroppo la professoressa non ha trattato aspettavo con ansia di sentire la sua posizione rispetto a questo argomento ma che viene enucleato nell'ambito di quello che è il profilo sanzionatorio nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione due piccole premesse si diceva e ha ben delineato il quadro della particolarità della pubblica amministrazione perché esiste un vincolo della carta costituzionale che impedisce la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato visto che l'accesso alla pubblica amministrazione deve effettuarsi attraverso concorsi pubblici questa è una norma conosciuta è una norma che non può essere violata e quindi i rimedi che il legislatore e che l'interprete della corte ha offerto per ovviare a questo sbarramento portano addirittura come diceva la professoressa a un sistema sanzionatorio che è addirittura aggravato per la pubblica amministrazione perché se da un lato non può esserci la trasformazione chiamiamola automatica del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'altra parte ci sono delle condizioni che l'amministrazione deve garantire giustificare quindi è un intervento è un'assunzione di carattere straordinario dettato da delle situazioni eccezionali e straordinarie ora a me sembra che questo aggravamento diciamo del sistema sanzionatorio sia perfettamente coerente con quello che è l'impianto generale di una pubblica amministrazione perché in realtà la pubblica amministrazione non solo in questi casi ma in tutti i casi deve assolutamente giustificare e motivare qual è la ragione della sua azione contrattuale quindi che si tratti di impiego pubblico che si tratti di un contratto di altro tipo che si tratti di un appalto che si tratti di un servizio che si tratti di qualsiasi tipo di attività negoziale che si tratti di qualsiasi tipo di attività di amministrazione attiva necessariamente la pubblica amministrazione deve motivare dunque perché non dovrebbe motivare l'assunzione fuori dal concorso è un diciamo che è la sanzione a mio avviso più corretta è la condizione non ancora la sanzione più corretta che si possa applicare a una pubblica amministrazione che necessariamente deve muoversi nell'ambito di una giustificazione motivazionale questa è la prima la prima diciamo considerazione che mi viene da fare rispetto all'ampio settore della pubblica amministrazione poi arrivo necessariamente a quello della pubblica amministrazione barretta scuola è un effetto dissuasivo questo a me sembra di sì che abbia un carattere dissuasivo proprio perché si inserisce nell'ambito di un di un obbligo di trasparenza motivata che l'amministrazione deve sempre garantire quando si muove in qualsiasi ambito quindi anche nell'ambito del pubblico impiego come del resto deve essere motivato il contratto il concorso chiedo scusa il concorso deve trovare una propria motivazione in una necessità quindi in una necessità anche di garanzie di garantire i partecipanti al fine di un'assunzione regolare nell'ambito della pubblica amministrazione la responsabilità di cui si dubita mi pare di aver capito che c'è un attimo di così di scetticismo rispetto a questo cioè il fatto che poi si vada effettivamente a sanzionare e a responsabilizzare quelli che sono i dirigenti che non hanno garantito non hanno rispettato questi parametri è vero che non ci sono delle situazioni che possiamo descrivere o in nucleare però ripeto è ancora più forte l'effetto dissuasivo proprio perché un dirigente sa quale è la responsabilità in cui potrebbe incorrere nel momento in cui non rispetta questa necessità di garantire per fatti eccezionali delle assunzioni che diventano a tutti gli effetti eccezionali questo nell'ambito della pubblica amministrazione io posso parlare per quella che è l'amministrazione provinciale dove questo problema è stato superato sto parlando in generale non del settore scuola è stato superato da una normativa e da una contrattualistica ormai datata che ha escluso la possibilità di un'assunzione fuori concorso quindi nell'ambito degli uffici provinciali questa situazione ormai è superata da tempo e infatti il rapporto anche da un punto di vista del contenzioso tra le cause relative a queste sporadiche situazioni di personale extrascolastico sempre definisco e l'amministrazione in quanto reiterati i contratti a termine sono a quanto mi risulta assai poche altro discorso invece per quello che riguarda la scuola la scuola oggi abbiamo in Trentino circa 1200 ricorrenti la scuola in qualche modo che è il settore di cui mi occupo per cui faccio dei paragoni perché mi sembrano assimilabili determinate situazioni è un pochino come la sanità cioè sono dei servizi essenziali che la pubblica amministrazione deve assolutamente garantire ed assicurare a tutti i cittadini e che necessitano proprio per fatto costitutivo per fatto empirico necessitano di una certa elasticità è chiaro che l'elasticità non può diventare abuso non può diventare discrezionalità non motivata deve essere esserci anche in questi settori una pianificazione una programmazione che nel rispetto della normativa vigente permetta di programmare quelle che sono le assunzioni e di delimitare il campo di quelle che sono le assunzioni del contratto a termine dunque qual è la situazione oggi da noi in Trentino la normativa che disciplina a monte il settore scuola è ancora la normativa numero 124 del 99 l'articolo 4 perché se è vero che la Corte Costituzionale è intervenuta su questa disposizione normativa sull'articolo 4 in particolare è altresì vero che ha eliminato semplicemente quello che è non eliminato ha integrato interpretato in modo integrativo quello che è il comma 1 e il comma 11 sono due commi speculari il primo riguarda il personale docente della scuola l'articolo il comma 11 riguarda il personale cosiddetto ata quindi tutto personale non docente che opera nell'ambito degli istituti scolastici ha dichiarato incostituzionale questi commi con richiamo nella parte in cui autorizzano in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi e successivi rinnovo potenzialmente il limitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili e quindi qui bisogna cominciare a distinguere come peraltro l'articolo 4 che mantiene tutti gli altri commi fa perché organizza il comparto scuola e la tipologia di contratti a seconda di durata della durata del contratto stesso quindi i posti vacanti e disponibili farebbero parte di sono quei posti cosiddetti di organico di diritto che risultano effettivamente privi di una titolarità quindi la norma è illegittima nel momento in cui non determina un termine massimo per la copertura straordinaria di questi posti che risultano liberi e vacanti i posti a tempo determinato o a termine sono invece disciplinati da altri commi che non sono stati toccati cioè in questa operazione a mio avviso da parte della Corte Costituzionale si riconosce che esistono delle modalità diverse di copertura di incarichi di lavoro che sono legate alle necessità diverse che la scuola ha non è un mistero per nessuno che la popolazione scolastica per esempio cala non è un segreto per nessuno che vengono garantiti certi insegnamenti che si ripetono negli anni costantemente sto parlando banalmente dell'italiano della matematica della lingua straniera ci sono invece materie di nicchia che in certi periodi hanno molto successo in altri periodi successo non ne hanno e che non ne avranno più pensiamo ad esempio al latino e al greco sono comunque delle classi di concorso che non stanno godendo di grandissimo favore la filosofia che è insegnata soltanto in determinati istituti non è una classe di concorso che garantisce molte prospettive di lavoro quindi l'articolo nel suo insieme è come corretto dalla Corte Costituzionale però mantiene a mio avviso il suo impianto per cui il reclutamento deve essere garantito soprattutto in ragione di quei posti liberi e vacanti che l'amministrazione ha il dovere di programmare come programma l'amministrazione l'amministrazione quantomeno quella provinciale ogni anno fa una valutazione di quella che è la popolazione scolastica di quelli che sono i pensionamenti ipotizzabili che naturalmente non possono essere quantificati al millesimo perché c'è una procedura che garantisce al docente di ritirare la propria domanda di pensionamento fino sostanzialmente a questi giorni per cui il dato non è mai precisissimo però è un dato che assicura di poter incontrare far incontrare quella che è la domanda e l'offerta naturalmente anche in considerazione del peso delle classi di concorso e di come devono essere garantiti determinati insegnamenti piuttosto che altri sulla base di questo vengono stabiliti quelli che sono i reclutamenti di anno in anno del personale di ruolo la provincia di Trento ormai da 2014 ha deciso non neghiamolo l'ha deciso anche il ragione del grande contenzioso che c'è stato dal 2011 ci occupiamo di questa cosa e il contenzioso che c'è stato da parte del mondo dei precari della scuola comunque l'idea è quella di coprire al 100% i posti liberi e vacanti quindi non ci sono delle disponibilità residue tutti quelli che possono essere qualificati come la corte costituzionale fa come posti liberi e vacanti sono posti che sono coperti necessariamente con personale di ruolo gli altri sono contratti a termine che vengono assegnati sempre con le procedure estive che ormai conosciamo ma torniamo ai contratti a tempo indeterminato come si popolano queste 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 graduatorie di persone queste graduatorie si popolano in due modi la fonte principale è quella ormai oggi del concorso e poi abbiamo la fonte delle graduatorie provinciali per soli titoli che è che è comunque una procedura che ha un carattere concorsuale è per soli titoli non per titoli ed esami come un concorso tradizionalmente visto però è una modalità comunque che si può definire concorsuale e che ormai da 2006 opera in Trentino che ha istituito delle graduatorie provinciali per per titoli diversamente dal miura che ha mantenuto quelle che sono le cosiddette GAE cioè le graduatorie ad esaurimento è una grossa diversità perché comunque la popolazione degli insegnanti viene comunque selezionata sulla base almeno di titoli professionali titoli professionali e titoli di studio ma non entriamo in questo dettaglio perché siamo per parlare di sanzioni o di presunto dovere di applicazione di queste sanzioni ora la Corte Costituzionale rispetto a questa situazione ha operato rispetto alla situazione generale della pubblica amministrazione ha operato una differenza proprio in considerazione del fatto che ci sono delle ragioni oggettive che motivano l'eccezionalità di questa situazione di reclutamento ora quali sono le sanzioni questo io io non lo so non non l'ho ancora capito nel senso che la Corte Costituzionale e poi le sentenze della Corte di Cassazione che sono intervenute nello scorso novembre a spiegazione anche o comunque a estensione di questo profilo hanno parlato e hanno distinto quelle che sono le giustificazioni e quindi hanno distinto tra la tipologia di un posto di lavoro e la tipologia di un altro posto di lavoro quindi hanno cominciato a fare delle distinzioni sull'organico di diritto che è quello appunto che comprende tutti i posti liberi e vacanti e l'organico di fatto sulla base di questo organico di fatto ancora una volta la provincia di Trento è intervenuta dicendo su questa disponibilità dell'organico di fatto cioè di posti che non sono sicuramente liberi e vacanti crea un reclutamento di personale a tempo indeterminato personale però cosiddetto a dotazione DOPS a dotazione di organico speciale che va a coprire non il singolo posto ma si ritiene di fare una stima che va a favore sicuramente di quello che è il reclutamento degli insegnanti una stima percentuale 40-70% per valutare che si possa reclutare delle persone e stabilizzarle chiamiamo così il termine mettendoli non sul singolo posto ma su una disponibilità generale sono le persone che vanno a aiutare quello che sono gli insegnamenti nell'ambito delle scuole la valutazione che fa l'amministrazione è che oggi possiamo calcolare in questa percentuale la necessità di un sostegno all'insegnamento da parte di personale specializzato e reclutato in questo modo gli altri sono contratti a termine l'intervento della norma che non credo sia casuale della norma della buona scuola che fissa in 36 mesi il termine massimo di possibilità di rinnovo di questi contratti a termine naturalmente esclude la possibilità di arrivare al superamento di questo termine massimo stabilito indicativamente non indicativamente ma precettivamente dalla direttiva europea stabilisce e riprende questo termine e fissa uno sbarramento per un reclutamento ulteriore ora a raccontarci proprio tutta la verità questa questa disposizione che è stata recepita necessariamente dalla provincia autonoma di Trento e convintamente è stata recepita dalla provincia autonoma di Trento tuttavia non è piaciuta moltissimo ai lavoratori della scuola perché bene o male prima questa questi posti che non erano liberi vacanti ma che pur c'erano a coprire le esigenze dell'utenza scolastica venivano praticamente assicurati diciamo oppure sine die ai laboratori che erano inseriti in un meccanismo di gradutorie o provinciali quindi con determinati presupposti di titoli abilitativi oppure delle gradutorie d'istituto lo sbarramento che oggi c'è a 36 mesi che è un sbarramento corretto perché dall'altro lato obbliga l'amministrazione e anche questo è scritto nella buona scuola e anche questo è stato recepito dalla provincia autonoma di Trento a fare i concorsi per cui ogni volta che io ho un esodo di personale perché va in stato di quiescenza ogni volta che io ho dei posti liberi e vacanti sono costritto a metterli a seconda delle esigenze a concorso e questo è stato fatto è stato fatto a parte le classi particolari di concorso come gli insegnanti di religione su cui non ci addentriamo perché sono veramente delle situazioni di nicchia però è stato fatto per l'insegnamento CLIL quindi l'insegnamento delle lingue alle elementari con dei concorsi sia nel 2015 che nel 2017 è stato fatto un concorso straordinario nel 2012 che non presupponeva se non una determinata caratteristica di servizio ma un certo tempo di servizio ma non presupponeva l'abilitazione è stato fatto l'anno scorso assieme allo Stato specularmente allo Stato più che assieme allo Stato è stato fatto nel 2016 attraverso un concorso che ha bandito moltissime classi di concorso non tutte quelle di cui l'amministrazione scolastica provinciale aveva la necessità perché dico tutto questo perché io non riesco a parlare di sanzioni laddove non c'è un profilo di illegittimità perché in realtà quanto meno dal 2006 l'amministrazione provinciale ha assicurato un reclutamento attraverso delle forme concorsuali quelle delle GPT e poi integrate da quelle che sono i concorsi che citavo testè e che sono piuttosto numerosi e che vengono garantiti d'ora in poi per obbligo di legge ogni tre anni quindi questa è la situazione la situazione che credo escluda la possibilità di una sanzione nei confronti dell'amministrazione quanto meno dell'amministrazione scolastica sull'altro sul resto non la dico grazie grazie avvocatessa Bobbio la parola adesso all'avvocatessa Cristiana Pudamonti si fa funziona allora sono l'ultima è già tardi quindi credo di dover essere necessariamente breve e quindi mi limito a degli spunti di riflessione che mi hanno sollecitato anche gli interventi precedenti mi concentro sul tema caldo diciamo della diversità dell'apparato sanzonatorio nel settore pubblico rispetto a quello nel settore privato e a riguardo una prima riflessione che mi sorge che mi sono sempre venuta alla mente è questa ma siamo sicuri che siamo sicuri che il presupposto esista che esiste e che sia corretto ritenere esistente il presupposto su cui si fonda tutto il sistema della diversità cioè l'argomento su cui è sempre stata impostata questa disparità e cioè quello del concorso pubblico e questo soprattutto in quei settori che sono molti del lavoro pubblico in cui l'assunzione dei lavoratori a termine e l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato avviene seguendo gli stessi canali e l'esempio della scuola direi è emblematico in questo a questo riguardo e infatti è già stato esposto dall'avvocato Bobbio che per metà almeno per metà l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato nel settore scolastico avviene attingendo delle graduatorie che poi in realtà sono le medesime graduatorie da cui si attinge per l'assunzione del personale a tempo determinato e allora mi chiedo è sempre stato giustificato sulla base del rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e del principio di buon andamento dell'amministrazione la previsione di un apparato sanzionatorio diverso nei due settori e questo sia a livello di corte costituzionale sia a livello di corte di giustizia europea però in molti settori dell'impiego pubblico direi che trovo difficile giustificare questo trovo difficile ritenere sussistente questo argomento un altro spunto di riflessione è il seguente siamo sicuri che naturalmente io parlo sempre dalla parte dei lavoratori e questo è anche il mio ruolo qui allora è per quello che pongo anche questi interrogativi siamo sicuri che il sistema così come delineatosi nel corso del tempo e così come definito almeno si ritiene per il momento definito da parte delle sezioni unite della Cassazione con la sentenza a cui accennava la professoressa numero 1572 del 2016 siamo sicuri dicevo che questo sistema risponda ai requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia e mi riferisco in particolare al requisito dell'equivalenza delle sanzioni si sono già soffermati gli altri relatori sul requisito della necessaria dissuasività dell'apparato sanzionatorio facendo riferimento in particolare alla previsione della responsabilità personale dei dirigenti e qui è tutto un punto di domanda perché occorrerà vedere come si si muoveranno anche sia a livello sanzionatorio a livello di sanzioni disciplinari le pubbliche amministrazioni sia come si muoverà la la Corte della Corte dei Conti dal punto di vista della responsabilità della responsabilità contabile però io mi pongo invece il dubbio dell'equivalenza dell'apparato sanzionatorio e qui non so mi permetto di dare una lettura mia che mi sono che ho così mi sono costruita io ma sulla base di un approfondito esame della sentenza delle Stazioni Unite della Cassazione la professoressa ha parlato di risarcimento come sanzione risarcimento nel pubblico impiego con funzione sanzionatoria e questo è vero lo dice la stessa la stessa Cassazione però occorre prestare attenzione ai termini secondo me perché questa funzione sanzionatoria cioè il termine sanzione va qui inteso come non come sanzione nel senso di punizione dell'amministrazione che abusa del contratto termine ma come sanzione nel senso civilistico del termine come reazione dell'ordinamento rispetto ad una situazione di legittimità provo a ricostruire così a ricondurre al sistema un attimo la questione nel lavoro privato noi abbiamo un apparato sanzionatorio che sostanzialmente corrisponde alle regole generali previste dal codice civile abbiamo una clausola illegittima contraria a norme imperative e quindi una clausola nulla e quindi una conversione visto che non è una nullità totale una conversione del contratto nel contratto corrispondente corrispondente legittimo ai sensi dell'articolo 1425 ma per il pubblico oltre a questo abbiamo un risarcimento del danno che è vero che è stato limitato per le ragioni che a cui accennava il professor Bolego è stato limitato dalla legge del 2010 poi modificata eccetera tra le 2,5 e le 12 mensilità però questo risarcimento del danno ha una funzione meramente risarcitoria secondo le regole generali del codice civile diciamo dell'articolo 1223 responsabilità contrattuale pur contenuta entro certi limiti nel pubblico invece abbiamo una situazione diversa e abbiamo una clausola nulla però una clausola illegittima però la sanzione che prevede l'ordinamento non è la nullità tant'è che l'articolo 1418,1 sulla nullità virtuale cui accennava il giudice Flaim consente cioè prevede la sanzione della nullità come regola generale e residuale però salvo che la legge disponga altrimenti e quindi qui la Cassazione ha introdotto questa sanzione diversa dalla nullità a mio avviso questa sanzione diversa dalla nullità per il caso di abuso del contratto a termine almeno questa è la mia lettura e questa sanzione diversa è stata individuata nel risarcimento risarcimento che poi è stato quantificato da calcolarsi secondo le regole previste dall'articolo 32 della legge 183 2010 quindi secondo sempre questo sistema forpetizzato del contenimento tra le 2,5 e 12 mensilità oltre a questo abbiamo un risarcimento del danno un risarcimento del danno con funzione risarcitoria che ha una funzione però completamente diversa cioè va rapportato a quello a cui assolve lo stesso articolo 32 nel settore privato non so forse è un po' contorto il mio ragionamento però mi sembra l'unico possibile almeno allora nel momento in cui noi andiamo ad effettuare una valutazione di equivalenza tra i due tipi di sistemi sanzionatori occorre che li rapportiamo nel loro insieme e quindi vediamo che nel lavoro privato c'è da un lato la reintegrazione nel posto di lavoro cioè non la reintegrazione scusate la conversione del contratto e un risarcimento del danno pur contenuto però sempre c'è mentre nel settore pubblico c'è un risarcimento del danno con funzione sanzionatoria quindi che va a sostituire la conversione del contratto più un risarcimento del danno secondo le regole generali però poi aggiunto la Cassazione da calcolarsi nei limiti della perdita di chance sostanzialmente che questo sistema che questi due sistemi siano equivalenti a me sorgono dei dubbi addirittura è stato detto da qualcuno da parte della dottrina che addirittura sarebbe avvantaggiato il lavoratore pubblico perché non ha l'onere della prova del danno ma non è vero che sia così perché quel danno quel danno che non necessita dell'onere della prova da parte del lavoratore è quello che ha funzione meramente sanzionatoria diciamo mentre l'altro danno da perdita di chance quello sì che deve essere provato dal lavoratore e magari la prova di quel danno è più difficile darla rispetto al sistema forfettizzato previsto nel lavoro privato ecco quindi chissà non so la Corte di Giustizia si è pronunciata innumerevoli volte in materia e da in materia di legittimità di un sistema sanzionatorio diverso fondato sul risarcimento del danno anziché sulla conversione del rapporto e ha detto che sostanzialmente va bene purché risponda a questi requisiti però non si è mai pronunciata sul sistema così come individuato dalle sezioni unite del 2016 e così come attualmente viene applicato nel nostro ordinamento e quindi potrebbe almeno io penso che potrebbe ritornare la questione alla Corte ecco su questo lo scopo anche di limitazione del contenzioso cui accennava la professoressa per quanto riguarda cui mirava il legislatore del 2015 sul nel almeno quanto meno nel lavoro privato sicuramente secondo me non questo obiettivo non è perseguito e non verrà raggiunto per quanto riguarda il settore pubblico dove da un lato rimangono questi dubbi di equivalenza della sanzione d'altro lato rimane comunque il requisito della causalità dell'assunzione a tempo determinato che sempre ha posto dei problemi ed ha suscitato numeroso contenzioso e quindi molto probabilmente forse le cause aumenteranno invece che diminuire ecco su questi punti problematici lascio a voi la parola grazie il problema è prova a rispondere però vuoi rispondere tu penso che abbiamo la stessa idea di equivalenza ti ho letto più o meno allora dipende quali sono i due termini di paragone perché estendere interamente al settore pubblico il medesimo regime sanzionatorio del diritto privato è impossibile perché sussiste da costituzione un limite che è quello sostanzialmente della pianta organica leggevo oggi proprio questa mattina su panorama avvia un articolo che nell'ambito della scuola a livello nazionale si parla di circa 6.000 e passa assunzioni di personale che probabilmente non ha fatto un'ora di lezione e che si trova diciamo così nelle graduatorie ad esaurimento nelle GAE e che però per il regime che è stato introdotto per la legge della buona scuola sarà stabilizzata e ci si chiede dove e questa è la ragione per cui l'equiparazione tra i due sistemi è diciamo così forse non oggettivamente ma quasi costituzionalmente impossibile perché il vincolo del concorso serve a questo cioè il bando viene predisposto nel momento viene predisposto e pubblicato nel momento in cui gli stessi posti ci sono cioè processi di stabilizzazione sono previsti anche nella recente legge 75 del 2017 però sempre sulla base di una programmazione ed è questa la diversità penso intrinseca cioè proprio l'elemento distintivo tra i due settori che fa sì che i due che la comparazione non possa essere fatta tra sistemi la comparazione può essere fatta a livello di dissuasività ed ecco allora il ragionamento che fa la Silvia attenzione che quando guardiamo alla dissuasività dell'apparato sanzionatorio non dobbiamo tener conto solo della trasformazione ma dobbiamo tener conto dell'intero apparato sanzionatorio che è previsto per il pubblico impiego ogni anno va fatta la comunicazione dei rapporti di lavoro flessibile i dirigenti sono sanzionati e vi è un obbligo di recupero delle somme eventualmente erogate l'apparato sanzionatorio è più complesso e l'equivalenza se va fatta in relazione alla dissuasività deve tenere conto anche di questi aspetti lo so solo due battute perché è tardi su quest'ultima sollecitazione allora la prima molto interessante era quella questione che lei poneva ma siamo sicuri che la regola del concorso non sia stata osservata in molti casi di reclutamento dei lavoratori a tempo determinato allora a parte ipotesi molto specifiche che effettivamente non conosco in linea generale io dico che non è osservata tutte le volte in cui viene messo a bando un contratto a tempo determinato e quindi a questo concorrono coloro che sono interessati a un contratto a tempo determinato e quindi ai bandi per contratto a tempo determinato sicuramente non partecipano coloro che sono potenzialmente interessati ad un impiego a tempo indeterminato questo significa quindi che non è osservata diciamo quella caratteristica necessaria della concorsualità e soprattutto della pubblicità cioè se quel posto si fosse conosciuto come a tempo indeterminato probabilmente vi avrebbero concorso molte più persone non quelle che vi hanno concorso in quanto interessate al contratto a termine quindi direi che questo argomento a mio avviso non è così pregnante viceversa se ci sono delle discipline specifiche questo non lo conosco effettivamente se invece i posti per la scuola sono tutti coperti con lo stesso identico concorso e allora qui effettivamente il problema si ripone però nel momento in cui invece un posto viene bandito a termine sicuramente diciamo risulta violata almeno diciamo l'elemento della pubblicità e quindi della ampia partecipazione di tutti coloro che possono essere potenziali interossati e titolati il secondo punto la preclusione dell'articolo 97 non è soltanto nella regola del concorso qui ammesso pure che ci fosse invece l'ipotesi di un unico sistema di reclutamento per posti a tempo indeterminato da cui poi si attinge per la copertura di quelli a termine nell'articolo 97 abbiamo anche la principio del buon andamento della pubblica amministrazione quindi una conversione diciamo così giudiziale non programmata in base diciamo alle regole della buona amministrazione potrebbe determinare degli effetti di spiazzamento della spesa pubblica inaccettabili ma proprio nell'ordine dell'articolo 97 della costituzione quindi pure qui è un'eccessiva semplificazione ritenere che l'articolo 97 ci ponga solo il problema della concorsualità nell'accesso perché c'è un problema più ampio che quello della programmazione della spesa pubblica e della buona amministrazione come diceva l'avvocato se diciamo tutti questi posti diciamo che vengono normalmente coperti con supplenti fossero tutti stabilizzati diciamo per sentenza avremmo diciamo anzi addirittura un surplus di personale perché in alcuni casi diciamo l'esigenza organizzativa che quegli supplenti andavano diciamo a coprire non ci sarebbe più nella pratica quindi direi che questi elementi secondo me valgono forse a rispondere a questo dubbio iniziale il problema dell'equivalenza allora in effetti questo è il problema secondo me un po' più oscuro che c'è nei pronunciamenti della Corte di Giustizia la Corte di Giustizia ci dice che le sanzioni sono appannaggio agli ordinamenti nazionali purché soddisfino questi requisiti di requisito della dissuasività e questo l'abbiamo capito cioè la capacità inibitoria dei comportamenti illegittimi la proporzionalità cioè quindi la sanzione deve essere proporzionata in qualche modo all'infrazione cioè quindi una sanzione minima per una infrazione elevata farebbe cadere diciamo questo requisito della proporzionalità e poi parlano di questo principio di equivalenza e su questo secondo me si innescano dei malintesi perché quando la Corte di Giustizia ci richiama questo parametro di equivalenza a parte che io ho fatto una ricerca è vero che magari non sono stata esaustiva ma non nessuno l'ha mai diciamo approfondito bene almeno nella sentenza Corte di Giustizia e laddove ho trovato degli approfondimenti del parametro dell'equivalenza nelle pronunciamenti della Corte di Giustizia questa è intesa non nel senso di parificare le sanzioni per settori o situazioni diverse ma quello diciamo nel senso che nell'ambito del settore pubblico quindi non posso interpretare l'equivalenza per parificare la sanzione del settore privato al settore pubblico perché diciamo ritornerai al problema della differenziazione legittima delle sanzioni quindi sicuramente non può essere interpretata in questo modo cioè che la sanzione del pubblico deve essere equivalente diciamo a quella del privato perché invece tutti diamo per assodato e questo ce l'ha detto la stessa Corte di Giustizia ma anche la Corte Costituzionale che sono tollerate e benissimo legittime le differenziazioni di sanzione l'equivalenza va fatta all'interno del microsistema in cui quella sanzione si inserisce quindi nell'ambito del settore pubblico questo significa che se la norma di attuazione della direttiva comunitaria fosse sanzionata con una sanzione più debole di quella che l'ordinamento interno normalmente riserva per analoghe situazioni antigiuridiche nel sistema pubblico allora sarebbe violata la regola dell'equivalenza questo significa che se io ho una norma interna di derivazione comunitaria come questa e la sanzione mettiamo con una sanzione soltanto amministrativa e poi c'è un'altra norma che non ha derivazione comunitaria sempre nell'ordinamento interno del settore pubblico ad esempio le co-co-co e quella lavata sanzionale con la conversione o con diciamo una sanzione molto più forte allora sarebbe violato il parametro dell'equivalenza perché non ci sarebbe equivalenza tra sanzioni diciamo che riguardano l'applicazione di norme di derivazione comunitaria e quelle di norme di derivazione interna nell'ambito di riferimento l'ambito di riferimento non è il contratto in termini in generale ma il contratto a termine nella pubblica amministrazione invece trasportare questo concetto di equivalenza nel senso di voler restaurare su questo piano l'omologazione delle sanzioni è una contraddizione in termini perché se diciamo che le sanzioni possono essere distinte queste diciamo debbono essere valutate in relazione all'ambito in cui sono inserite quindi il tema e quindi concordo poi quello che diceva Giallo quindi semmai il tema ridonda nella distrasività ma non si può richiamare l'equivalenza qui per stravolgere la sanzione che il legislatore ha messo per parificarla in sede interpretativa a quella operante nel settore privato perché si fa un'operazione che a mio avviso non è autorizzata neppure da questa diciamo interpretazione di questo orientamento della Corte di Giustizia europea che ci richiama il parametro dell'equivalenza non so se sono riuscita a spiegarmi il concetto è un po' complicato quindi e qui vedo invece che c'è qualche malinteso probabilmente o comunque su questo bisogna approfondire bisogna approfondire sul piano di equivalenza invece io ritengo che se questa è l'interpretazione che bisogna dare non è detto perché non ho ovviamente la verità nelle mie mani e se questa è l'interpretazione che bisogna dare l'equivalenza è soddisfatta perché mi sembra che il sistema rimediale per la violazione delle norme su contratto e termine si possa ritenere equivalente a quello che per esempio riguarda il legittimo utilizzo della somministrazione o dei lavoratori diciamo autonomi occasionali nel settore pubblico perché diciamo l'apparato rimediale interno al sistema pubblico è sempre lo stesso risarcimento del danno che poi abbiamo capito che è scorretto parlare di risarcimento perché è un risarcimento ha tecnicamente diciamo richiamato ma è un indennizzo non è risarcimento e diciamo punizione dei dirigenti questo è l'apparato più obblighi di comunicazione e quindi controllo diciamo e poi è un apparato che seppure può sembrare più debole sul piano sanzionatorio si dovrebbe compensare con la invece maggiore incessività dell'elemento prevenzionale che è quello che abbiamo detto a monte cioè del requisito sostanziale più restrittivo più forte più severo che c'è nel settore pubblico quindi in quest'ottica io ritirerei che anche il principio di violenza è rispettato solo due battute ma proprio due battute che non mi permetterei mai di dire altro su non vorrei aver dato l'idea di inneggiare diciamo questa tecnica normativa del Jobs Act ne prendo atto come diciamo evidentemente la reazione forte di un legislatore che ha voluto prendere una posizione rispetto diciamo al sistema precedente mi convince quello che diceva il giudice Flaim cioè è chiaro che il giudice non può essere privato della sua diciamo discrezionalità interpretativa che si potrebbe recuperare sul piano della conformità comunitaria però ci dobbiamo anche diciamo ricordare che la interpretazione conformatricia che i giudici possono fare si arresta a un certo punto diciamo di fronte al dato normativo per cui si può interpretare una norma che ha dei margini di interpretazione come sicuramente aveva la vecchia norma ma diciamo la nuova norma forse più che essere interpretata potrebbe essere magari se si ritenesse diciamo un contrasto sussistente un contrasto con la normativa europea si dovrebbe rimettere alla corte costituzionale appunto per rimettere alla corte costituzionale la valutazione della razionalità e conformità comunitaria della nuova normativa del contratto termine mi sembra che la diciamo l'elemento letterale sia difficilmente sormontabile in sede interpretativa in alcuni punti però diciamo tutto può essere quindi vedremo come si svilupperà la giurisprudenza su queste su queste questioni sulla scuola non getto le armi nel senso che è troppo complicato un'unica cosa che mi ha colpito cioè diciamo l'introduzione poi del limite dei 36 mesi che prima non c'era diciamo ha scontentato i docenti cioè è un esempio in cui la normativa che è stata introdotta con un'ottica di tutela diciamo e quindi di prevenzione cosiddetto dell'abuso si ritorce paradossalmente nei confronti dello stesso lavoratore interessato la stessa identica cosa è accaduto quando è stato introdotto il limite dei 36 mesi cumulativi che non c'era in passato adesso mi ricordo se era il 2007 2008 non ricordo quando è stata introdotta nel 368 2001 quella regola che prima non esisteva cioè che c'era il contatore individuale per cui superati i 36 mesi quel lavoratore doveva essere lasciato da quel datore di lavoro non può essere occupato quello ha determinato un'allarme enorme in tutta una serie di imprese che invece erano abituate non soltanto a riassumere sempre gli stessi ma addirittura c'erano dei bacini contrattualmente negoziati dalle quali l'impresa si impegnava ad attingere sempre gli stessi che giustamente avevano una legittima aspettativa di essere riassunti a termine pensate alla RAI questo ma insomma anche altri grandi realtà e lì sono stati i lavoratori a lamentarsi di quella norma che apparentemente però queste norme vanno valutate diciamo mentre il settore privato poi io non ho fatto fatica a ravvisare una razionalità di quelle norme che apparentemente erano diciamo lesive di un interesse di quel lavoratore all'immediata rioccupazione presso l'impresa perché si poteva recuperare una razionalità complessiva appunto per evitare la precarizzazione individuale evidentemente quel datore di lavoro se dopo 36 mesi non era interessato all'impiego stabile è meglio che ti lascia in modo che diciamo hai qualche chance di trovare un'altra opportunità di lavoro a tempo determinato mi chiedo se una stessa razionalità ci possa essere invece nel sistema della scuola ma non me ne intendo cioè dire porre il limite dei 36 mesi quale razionalità poi ha ai fini del sistema cioè ritorna in qualche modo utile per questi docenti incontrare a un certo punto il limite dei 36 mesi oppure una norma soltanto imperdita non so come dire mentre nel settore privato c'è l'opportunità di un altro datore di lavoro che ti può dare un'opportunità di impiego stabile che il precedente non ti dava ed è evidentemente lì che il legislatore vuole indirizzare comportamenti e nel settore pubblico dico se non c'ho più l'impiego e non c'ho più diciamo l'assunzione a tempo indeterminato cosa c'ho? Ecco allora lì veramente c'è un problema di razionalità però lì serviva per renderlo comunitariamente compatibile perché mancava una di quelle tre misure che la direttiva diciamo richiedeva la norma antiabusiva e quindi lì è stato introdotto quell'elemento per diciamo recuperare una conformità comunitaria però sicuramente questa cosa della scuola è molto complicata quindi potrei aver detto delle cose non corrette diciamo tecnicamente se posso l'aspetto positivo che prima rimarcavo dei 36 mesi che sicuramente pone un problema per i docenti che sono arrivati a fine corsa diciamo rispetto alla possibilità di contratto a termine però dall'altro lato impone all'amministrazione di ripetere i concorsi e quindi la possibilità intanto credo che sia meritorio questo obbligo di concorso non solo perché ce lo dice la Costituzione ma perché garantisce un elevamento della qualità del personale che viene reclutato attraverso delle forme concorsuali quindi questo dà un ulteriore obbligo all'amministrazione e la possibilità per il lavoratore a termine di organizzarsi per poter entrare attraverso il canale che la Corte Costituzionale definisce privilegiato che è quello del concorso pubblico quindi questa è diciamo la positività di quello sbarramento che è stato effettuato io ritorno sul profilo dissuasivo che è legato proprio alla necessità e all'obbligo dell'amministrazione di motivare la propria azione che si scelga una strada o l'altra la necessità di motivare è sicuramente lo strumento più importante e consono a una pubblica amministrazione che ha un effetto deterrente molto molto significativo a mio avviso abbiamo ancora un quarto d'ora per delle domande da parte del pubblico volevo fare una richiesta abbastanza semplice appunto in materia di regime sanzionatorio volevo chiedervi semplicemente qual è secondo voi la sanzione applicabile al caso in cui il datore violi l'obbligo di il diritto di prelazione a favore di precedenza pardon a favore del lavoratore a termine che i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto pur avendo chiesto di usufruire della precedenza non viene richiamato perché probabilmente non mi pare che leggendo il decreto legislativo si possa ritenere di applicare l'articolo 28 penso dopo mi direte magari vatti a vedere giurisprudenza vecchia magari il dottor fly mi tira così però visto che l'ho visto che c'è chi riconosceva la trasformazione chi riconosceva il risarcimento oggi secondo voi appunto se un datore non rispetta questo diritto di precedenza la tutela del lavoratore da una parte e la sanzione del datore qual è? non lo risponda lei non lo risponda lei risponda prima lei faccio io faccio io rispondere il professor esattamente ci vuole la dottrina io penso che non ci sia la trasformazione non ci sia la costituzione di un rapporto che qui stiamo parlando di un rapporto terminato chiuso e di diciamo un nuovo contratto che il datore di lavoro stipula con un lavoratore pretermettendone un altro cioè il titolare del diritto di precedenza ora mettiamo pure che questa incondotta sia illegittima sicuramente illegittima perché è in violazione di una norma che invece darebbe il diritto di precedenza a quell'altro è questa violazione sufficiente a costituire un rapporto di lavoro col titolare del diritto direi che proprio non è possibile ipotizzare una cosa di questo genere quindi qui mi sembra che la posizione prevalente in dottrina adesso mi smentirà subito il giudice Klein è quella di ritenere in questo caso ovviamente il risarcimento del danno come diciamo soluzione percorribile anche perché sul medesimo posto potrebbero concorrere una pluralità di lavoratori e quindi diciamo è chiaro che una costituzione di diritto diciamo giudiziale in rapporto con uno di questi o si potrebbe certipotizzare con tutti sarebbe insomma impossibile quindi qui è la strada risarcitoria in senso proprio a mio avviso che poi è quella della perdita di chance che è quella poi insomma diciamo di come sarebbe stato retribuito quel lavoratore o mai mai fosse stato assunto e quindi più o meno abbiamo anche il parametro retributivo e quindi è una sanzione risarcitoria però una sanzione indiretta a mio avviso è molto più grave perché da quello che mi riferisco i consulenti del lavoro che forse ce ne sono questa cosa del diritto di precedenza getta il panico nel senso che l'Inps va di default cioè se non trova un diciamo un match di nome tra i precedenti lavoratori a termine e quelli che vengono riassunti dà per violato il diritto di precedenza e la violazione del diritto senza fare ulteriori approfondimenti se quel lavoratore effettivamente ha manifestato l'interesse titolare del diritto e così via no va diciamo una presunzione assoluta di violazione di legge e questo determina come sappiamo tutti il fatto che non vengono riconosciute tutta una serie di agevolazioni contributive questo crea uno scompiglio tale per cui i datori di lavoro ora quando mi capita di parlare con i datori per loro il problema è il diritto di precedenza cosa che io non avrei mai detto perché mi sembrava una norma senza sanzione quindi una norma debole e quindi dico beh ma questo diritto di precedenza diciamoci la verità è un po' debole come norma invece paradossalmente è una norma su cui c'è un livello di attenzione delle imprese molto elevato perché diciamo c'è questo problema perché diciamo di gestione di tutte le incentivazioni economiche su cui si fonda diciamo le cose a cui le imprese tengono diciamo in massima attenzione insomma poi il costo del lavoro perché se l'Inps poi ti revoca tutto questo era successo nell'imminenza pure delle agevolazioni contributive dei sgravi contributi triennali per i nuovi assunti non venivano riconosciuti perché diciamo non si ritrovavano magari gli antiprevidenziali e la corrispondenza dei nominativi quindi per questo dico questa è una sorta di sanzione indiretta e certo perché i consulenti sono andati a ministero e sono fai qualcosa confesso di essere largamente impreparato sulla questione forse all'esame chiederei di cambiare la domanda ma no nel senso che allora io ho qualche ricordo sul diritto di precedenza per quanto concerne il un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e la giurisprudenza applica il risarcimento in forma ordinaria o il risarcimento integrale e la questione nel caso invece della violazione di due precedenze rispetto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato se accediamo alla via del risarcimento del danno si pone il problema della quantificazione perché è evidente che se come dire siamo di fronte a un diritto soggettivo per il quale non si è perfezionata la fattispecie costitutiva in riferimento a quel specifico soggetto e quindi ci sono una pluralità di soggetti si applicherà il risarcimento del danno da chance quello che avviene nel caso dei concorsi privati nell'ipotesi in cui vi sia un soggetto determinato che sulla base appunto dei presupposti previsti dalla legge aveva diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato beh insomma non so nel senso che perché parlare di risarcimento del danno dobbiamo anche dimenticare non possiamo dimenticare che il risarcimento del danno prevede il risarcimento del danno per equivalente ma prevede anche la rintegrazione in forma specifica nell'ipotesi sto pensando non c'entra niente ma nell'ipotesi dei concorsi privati si si dice beh qui ovviamente non puoi avere il bene della vita perché stai concorrendo con altri però il risarcimento del danno può tradursi in una rintegrazione in forma specifica nel senso che il giudice può condannare il datore di lavoro a rifare la gara e quindi qui insomma devo dire si risolve un problema ma se ne apre un altro se si ritiene che non vi sia un diritto vero e proprio la costituzione del rapporto 18 19 mi sarebbe no non era tipo 18 stavo parlando del voto 18 19 sarei calata intervengo molto velocemente perché ormai il tempo si è molto dilungato sollecitato molto dall'immagine che ha usato prima il giudice Flemendet che ha contraposto il boscaiolo all'orfo due mestieri assolutamente diversi però vorrei sottolineare una cosa non sempre se il legislatore politicamente interviene come il boscaiolo ci riesce poi quando opera come giurista e non sempre quando politicamente opera come orfo ci riesce poi da giurista cioè il giurista ha una sua autonomia questo lo dico per dire che io non penso che il Jobs Act in sé sia coerente diciamo sempre con le proposizioni politiche che ci sono state a monte a volte è riuscito a tradurle altre volte è stato fatto in maniera molto così improvvisata sostanzialmente faccio proprio due esemplificazioni sicuramente il riferimento al fatto nel licenziamento è una cosa che è nata molto velocemente non pensata proprio fatta male diciamo così come nella legge Fornero dichiarare l'assenza del motivo il licenziamento inefficace è un errore insomma che metterebbe in difficoltà qualsiasi studente diciamo al nostro esame però ci sono anche altri aspetti in cui effettivamente è riuscito a formularla bene allora dico questo la professoressa Ciuciovino nella sua replica ha giustamente posto in risalto la formulazione letterale rispetto alla posizione del termine io penso che lì sia stata scritta bene fai un errore se tu giustifichi la soluzione dicendo c'è la razio c'è l'intento come fanno molti diciamo che sono anche pro business diciamo per cui siccome il legislatore voleva far quello noi dobbiamo come giuristi impacchettare tutto andiamo via e non c'è più niente no è giusto guardare la norma però Giorgio devi farlo anche tu devi partire da lì non puoi partire dal 1418 devi partire dalla norma del decreto legislativo dove si dice può apporre il termine se non insomma nei limiti del perché è giusto partire da lì è la norma giuslavoristica che è la norma speciale altrimenti non cambia mai diciamo il diritto perché è sempre il diritto civile è sempre la stessa proposizione evidentemente in passato era normata la causa in concreto adesso non è stata più normata ha una giustificazione politica che non gioca nessun ruolo che però c'è per il fatto che si voleva aiutare l'occupazione sostanzialmente anche in Germania è stato così per un periodo nel tutto il diciamo tutti i governi col non c'era il Sarkont per la posizione del termine perché la Germania allora era in difficoltà dal punto di vista ma non è detto che poi il legislatore ci riesca qui secondo me ha operato abbastanza bene sull'equivalenza vorrei dire all'avvocato Pinamonti che c'è del vero in quello che lei dice perché non in tutti gli ordinamenti europei c'è questa norma costituzionale così come dire come la cappa di caldo come c'è adesso su Trento diciamo per cui devi fare necessariamente il concorso per cui sicuramente questo gioca un ruolo a livello di corte giustizia perché sono lì sono non c'è solo il flam c'è il flam italiano c'è il flam tedesco c'è il flam inglese c'era quello inglese insomma adesso non ci sarà più c'è quello olandese e così via per cui la forma mentis è quella di un sistema pubblico molto più complesso del nostro che non ha solo questo anche per dire alla Silvia la soluzione di dire facciamo il confronto all'interno del settore è molto italiana perché è molto basata su questo 97 come se fosse un dogma una cosa che esiste sempre però in Italia esiste per cui effettivamente superare questo parametro richiede un ragionamento molto più complesso di quello così proprio solo di fare riferimento alla sentenza della Corte qual è la soluzione indicata certo Giorgio tu la fai molto facile perché dici tutte le norme sono norme di clausole generali adesso c'è la nuova norma che dice che deve essere dissuosivo e io poi ho mano libera e decido non seguo ma questa non è la regola del caso concreto è decidere caso per caso tu devi invece sviluppare una regola che significa che devi porti il problema che la applica a tutti i casi che sono quindi è un po' più complesso il tuo e dovrai fare i conti anche tu con la sentenza delle sezioni unite non puoi dirti semplicemente io faccio riferimento al fatto che dice che è dissuasiva non mi interessa perché è bene che tu faccia riferimento alla sentenza delle sezioni unite sulla quale adesso io non mi dilungo perché ho una mia idea ma non sarebbe lungo prospettarla perché ha molti passaggi non penso che sia l'ultimo punto perché da discrezionalità tra il 2,5 e i 12 ti dà la possibilità di provare poi sul risarcimento del danno in realtà anche tra i 2,5 e i 12 qualche prova devi darla perché a un certo punto ci saranno dei criteri per dire come si commisura per cui poi alla fine non mi sembra l'ancoraggio giusto per dire c'è qualcosa di sanzionatorio un po' più fermo rispetto al fatto di dire semplicemente c'è il risarcimento del danno insomma che poi si calcola non mi sembra un grandissimo approdo però evidentemente è un passaggio perché quando farai la tua sentenza che contrasta con le sezioni unite devi leggerti tutte le motivazioni delle sezioni unite perché hai un onere argomentativo e devi tirare fuori qualche argomento che le sezioni unite non hanno assolutamente considerato che non può essere semplicemente il fatto di fare riferimento alla norma comunitaria perché quella norma comunitaria è in una direttiva a un passaggio diciamo interno di trasposizione ci sono una serie di passaggi argomentativi che fanno sì che non sia un regolamento e quindi il processo argomentativo è molto complesso dico solo una cosa velocissima sulla scelta di quello che appena detto il professor Nogler sull'orizzonte comparato perché noi abbiamo discusso di un tema molto tecnico molto confinato nel nostro ordinamento e in cui l'alternativa della tutela è sostanzialmente la conversione con la tutela risarcitoria qualche cenno è stato fatto alle sanzioni amministrative io segnalerei che esistono ordinamenti dove le tecniche sono diverse e dove ci sono degli spazi per immaginare tutele che proteggono le transizioni nel mercato del lavoro perché il punto nei contratti a termine è specialmente questo è rimasto sotto traccia però il problema della tutela dei soggetti che hanno un contratto a termine è principalmente un problema di ricollocazione nel mercato del lavoro e quindi se dobbiamo trovare una ragione diciamo una causa in concreto che differenzia i contratti a termine dai contratti a tempo indeterminato oggi io la troverei nell'orizzonte del mercato del lavoro quindi il nostro legislatore non se ne è preoccupato il Jobs Act non ha fatto questo tipo di differenziazione forse in qualche bozza intermedia c'era stato qualche tentativo poi non è andato a buon fine però penso che questo sia un orizzonte che dovremmo tenere in considerazione per esempio se guardiamo il Regno Unito che ha un'esperienza di contratti a tempo determinato più solido ovviamente perché le ragioni storiche culturali il mercato del lavoro è molto diverso troviamo delle tecniche protettive che sono differenti quindi allargherei l'orizzonte semmai proprio in chiave semplicemente culturale senza legarlo al dato del diritto positivo e ricorderei proprio perché dobbiamo alla fine essere provinciali che siamo l'unico ordinamento insieme forse alla Grecia alla Spagna al Portogallo che ha una quantità di contenzioso sui contratti a tempo determinato specialmente nel settore pubblico che provoca a cascata un vai e vieni dalla Corte di Giustizia non credo che ci sia io capisco il problema della crisi del ruolo e il ruolo della giurisdizione però io non credo che esista un altro ordinamento in Europa che ha questo tasso di conflittualità non solo fra giudici nazionali e giudici europei ma anche fra giudici di merito e giudici di legittimità penso che la vicenda della scuola sia una vicenda che ha svelato la fortissima conflittualità fra giudici di merito e giudici di legittimità quindi di questo fattore come giustamente ci ricordava anche il professor Noglio dobbiamo tenere conto quando facciamo un ragionamento complessivo perché altrimenti pensiamo soltanto al legislatore diciamo boscaiolo insomma anche giudici di giudici boscaioli non il giudice flyman giudice orafo sicuramente però diciamo di giudici boscaioli nel senso meno diciamo così nobile del termine ce ne sono parecchie ce ne sono stati parecchi nel caso delle vicende che riguardano il contratto a termine quindi penso che di questo l'interprete nel complesso dovrebbe tenere conto e preoccuparsi no evidentemente non mi sono spiegato bene faccio perché è molto tardi due come dire due punti due questioni faccio un esempio il primo esempio è la questione del risarcimento del danno nel caso del contratto di lavoro pubblico è ben evidente che se io decidessi di disattendere le sezioni unite le quali si pronunciano nell'ambito come dire di un sistema che è delineato in maniera come dire organica cioè la corte di giustizia pone dei criteri il criterio dell'equivalenza e dell'effettività dice anche che questo lo deve valutare il giudice nazionale se il giudice nazionale ritiene di interpellare la corte di giustizia sul punto lo faccia questo non significa che il giudice di Trento decide a prescindere perché apro e chiudo una parentesi un'osservazione mia cioè io sono sempre molto contrario come dire a adottare decisioni così eccentriche uno perché potrebbero in generale delle aspettative al vincitore che vengono come dire cancellate con un tratto di penna dal giudice d'appello quindi e poi sembrerebbero come dire degli esercizi oggettivamente di esibizionismo allora è evidente che nell'ipotesi in cui mi venisse in mente di ritenere di non seguire le sezioni unite beh dovrei agire allo stesso modo come in tante altre materie su tante altre questioni laddove le sezioni unite si sono pronunciate se lo sperduto giudice di Trendo non è d'accordo quantomeno avrà l'onere salvo fare una sentenza sbagliata e probabilmente destinata a essere cassata appunto con due quindi e quindi voglio dire io non ho la minima intenzione come dire di fare il Don Quixote rispetto a un orientamento che si è consolidato in quel senso e che ha l'autorrivolezza come dire non equivale a una norma di legge ma certo ha la sua autorrivolezza su questo non c'è dubbio voglio dire non è che improvvisamente come dire anch'io se ho la questione e trovo le sezioni unite beh insomma tutto sommato sono anche abbastanza contento insomma lo stesso discorso vale cioè per gli altri due temi di cui abbiamo parlato cioè se io oggi valutassi la validità di di un contratto di lavoro a termine andando a ricercare se sussiste o meno la ragione temporanea è evidente che andrei a a disapplicare una norma di legge non considererei una norma di legge la stessa cosa se io dicessi ma sì qui è stato violato il 20% però è vero che la norma di legge nazionale prevede la sanzione amministrativa ma io trasformo il contratto cioè è evidente che farei delle cose che insomma sono inqualificabili io segnalavo un'altra questione che secondo me è molto più rilevante cioè segnalavo la questione che questa ricerca secondo me è un po' spasmodica del legislatore nazionale nel mettiamola in maniera come dire nel descrivere in maniera tassativa le fattispecie e allo stesso modo gli effetti si colloca in una situazione quanto meno nei contratti a termine in una situazione che come ho detto prima non è tabula rasa cioè la corte di giustizia ovviamente come dire sulla base di quello che ho detto prima è chiaro che io non posso dire non mi interessa cioè voglio dire quello che interessa a me è la mia valutazione no è chiaro ma la corte di giustizia le indicazioni che dà la corte di giustizia sono indicazioni che si fondano sull'interpretazione teleologica che si fondano sull'effetto utile che si fondano su qual è l'obiettivo quando la corte di giustizia mi dice il legislatore nazionale può scegliere una al fine di contrastare le successioni le reiterate le legittime può scegliere una o due purché venga salvaguardato l'obiettivo cioè io segnalo che questo questo non significa ovviamente ripeto che il giudice parlo del giudice in questo caso il giudice di primo grado deve ignorare lo ius conditum quello che ha detto il legislatore questo è evidente quello che io segnalavo è che questa tecnica normativa fatta di fattispecie rigide poi contrasta con normative superiori perché ma e perché come dire la corte della corte di giustizia prende in considerazione come dire tiene aperta questa sorta di valvola ma perché per quello che dice nel preambolo l'accordo e le direttive che il contratto di lavoro a tempo determinato a tempo determinato è la forma ordinaria che le reiterazioni illegittime incidono sulla qualità della vita dei lavoratori allora è evidente che questo aspetto della sacgrund beh insomma a legge può essere cancellato dal legislatore ordinario secondo me però questa è un'operazione che potrebbe avere il fiato corto tutto qua questo non significa che determinerà una come dire disapplicazione generalizzata della norma questo no questo mi pare evidente ma la questione che si pone è che secondo me una tecnica normativa di questo tipo che va a contrastare con quella che è la realtà materiale questo è il problema perché se saltando dai palo in frasca cioè se mi si dice che la sanzione per il licenziamento legittimo deriva dall'esistenza materiale o meno del fatto cioè è evidente che quello è un criterio che non può stare in piedi e in qualche modo è stato rettificato facendo che cosa cioè reintroducendo in qualche modo il potere di valutazione del giudice perché stabilire se un fatto è disciplinarmente o non disciplinarmente rilevante certo non posso come dire andare alla macchinetta e mettere dentro come dire il foglietto e poi mi si dice se è disciplinarmente o non disciplinarmente rilevante è questo pensare di disciplinare i fatti concreti attraverso norme generali astratte porta a queste anche complicazioni tutto qua altre domande allora direi che abbiamo superato il termine massimo delle 19 e possiamo chiudere per oggi arrivederci al prossimo dialogo che è a settembre 28 settembre grazie a tutti arrivederci buona estate buona estate buona estate buona estate